Benvenuti, bentrovati, ciao a tutti! Oggi è il quinto venerdì di aprile, sapete che la maggior parte dei mesi contengono ovviamente quattro venerdì e io avendo quadripartito il pub, ero tranquillo, mi hanno segnalato che però appunto aprile conteneva cinque venerdì e ho detto ecco, adesso che cazzo faccio, cosa mi invento, facciamo un pub normale, facciamo la replica di un pub avvenuto nelle scorse settimane ho detto perché non proviamo a fare un crossover e mi è venuto in mente il crossover più improbabile di sempre non tanto per la mia volontà ma perché le persone che fanno parte di questo universo hanno orari, ritmi e soprattutto un carattere abbastanza distante dal mio vorrei presentarvi gli ospiti di oggi, ovvero Old Gen, ma prima di questo, chiaramente, sigla! Allora, come primo ospite presento la persona che mi ha iniziato a Twitch, forse se ne è pentito, forse no, non lo so però mi ha consigliato le prime attrezzature, come muovermi su Twitch, cosa fare, cosa dire e abbiamo fatto la nostra prima live insieme, signore e signori, ovviamente Francesco Miceli in arte Froze Ciao Francesco! Io ho visto pure le pisellate sul telefono al tizio della team, è un momento glorioso, estremamente importante che va ricordato Possiamo dire uno dei momenti più alti della mia e tua carriera Assolutamente, l'ho raccontato non so quante volte questo aneddoto Adesso presentiamo il maestro, l'onniscienza fatta giocatore, la persona che ci ha indicato la via Anche nelle tenebre più spesse, più spaventose, Sabaku Wow! Ciao Miceli! E introduzione, buonasera! Sempre, sempre! Porto la luce! Grande amico, anche lui cariatide del mondo di YouTube Anche se non parla propriamente dei videogiochi, comunque qualcosa da dire lo trova sempre Sarà sbagliato? Chissà, lo valuteremo in seguito Victor Laszlo! Ciao Vic! Ragazzi, ciao a tutti! Ciao Vic, benvenuto, benvenuto Adesso diamo invece il benvenuto a un duo Il primo è semplice da pronunciare, è semplice da scrivere anche Mentre l'altro, se scritto male, ti può negare l'accesso a qualsiasi piattaforma esistente sul web Ovvero Sinergo Fate un mente locale e datevi una risposta Eccolo qua, Reddits e Sinergo Ciao ragazzi! Ciao! Sine, l'ho capito adesso Ah! Scusate ragazzi, è una certa ora, a quest'ora gli anziani dormono Eh sì sì, esatto, poi ora racconteremo anche di questo perché è molto interessante Ora un altro dei miei, una persona che non sa assolutamente il mondo videoludico ma fa finta di saperne qualcosa Nanni Twitch, che si sta calcolando peraltro E si parte così Sì sì sì, certo certo E adesso ragazzi, una persona che qua dentro non se la sarebbe mai aspettata nessuno Cioè una persona che va a letto all'otto e mezzo e che si sveglia alle sei del mattino per poter stare in piedi davanti alla sua scrivania Non si sa bene perché, ma eppure Eccolo qua, ormai c'ha presso gusto Karim Busa, io tovi Perché? Perché? Perché domanda? Le braccia molli Perché? Buonasera E ci siamo tutti ragazzi Ci siamo tutti Allora, ragazzi, io voglio partire proprio da questo Da Reddits e Sinergo Perché Reddits e Sinergo hanno le persone più improbabili A parte Karim Dentro a questa A questo No, ma non è c'è bisogno È così Comunque è giovane È giovane Perché voi avete dei ritmi molto diversi dai miei Però voi che siete dei videogiocatori Che giocate Parlate di videogiochi Le recensite eccetera Come fate a non giocare di notte? Cioè come fate a non fare le 5, le 6 Ha detto che non giochiamo di notte Scusa L'ho detto a te Dico a Reddits e Sinergo A te lo so A te fra, figurati Lo so benissimo Ma loro Come fate? Gioicate la mattina Ma Dio sa sa gioia la mattina Beh, se non giochi online non c'è nessuna differenza No, dai È più bella la notte È più poetica Ti fa immagina ancora di più Nelle pieghe nella notte Della oscurità Ti immagini la storia Nel brillio Dario, ma te a che ora ti alzi la mattina? A luna Ah Quindi tu ti svegli nel primo pomeriggio, Dario? Io mi sveglio a pranzo Faccio Nicola, a luna è finita la sua giornata lavorativa La mia giornata è finita Che è un po' tecnico Io pranzo alle 11, Dario Dai, carino Come alle 11 Se mi sveglio alle 7 Alle 11 Sono passati 4 ore Questa è la frase che mi ha fatto sentire più terrone fino ad ora Perché te anche le mangi, francesco E beh, a luna come le persone normali A tocco Come le persone normali Scusami, Francesco Esatto Allora, poi si può sforare di una mezz'ora, forse Ma tu veramente pranzi alle 11 Ma non era una battuta che pranzi alle 11? Sì Jokes on you Esatto Tecnicamente è uno stile di vita molto salutare Cioè, sarà meglio consigliato Ma chi se ne frega della salute Fra poi ci tirano un missile nel viso E si sta a pensare alla salute Che cazzo se ne frega O meno catastrofisti Ma è catastrofisti C'è una guerra qui dietro Ed è praticamente Stai a pensare a cosa A il The Ring Ma io veramente È assurda questa cosa No, ora non parliamo di The Ring Michele, stai tranquillo Non approfitteremo di questo argomento E della tua presenza Perché parliamo sempre di The Ring Ma almeno l'hai finito Sì, l'hai finito Che cazzo di domanda ho fatto Vabbè Non l'hai finito L'ho finito ieri Come l'hai finito ieri? Tan 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 L'hai finito L'hai finito Sì E quindi? Eh no No Ora è subito così Next time Ma io Francesco Ti alla fine Com'è andato con Dark Souls invece? Eh guarda Con Dark Souls E The The Ring Nel senso Dark Souls Cioè sono a buon punto A quanto dicono E hanno detto Sei praticamente Il ciaddone di Dark Souls E non lo sapevo Cioè? Come stile di gioco E tutto Nel senso che sto andando Dritto per dritto Non me ne frega niente Meno tutti Che con l'arma più grossa E non me ne frega niente Sto giocando anche a The The Ring Facendo una boss rush fondamentalmente Non ho capito Facendo una boss rush fondamentalmente Praticamente una boss rush Cioè io Quando magari ci gioco Cioè qualcuno Dov'è il boss? Quella Ma adesso il prossimo Che si mena Dov'è? Là Ok Cioè io sto giocando così Sto io voglio le botte Come insegna Michele I giochi from Sono anche belli Perché ti puoi approcciare Come vuoi È vero È The Ring Poi se fai il mago all'inizio Ti vieni probabilmente ucciso Anche gli NPC più idioti Però effettivamente Però sto leggendo tutti i dialoghi Sto seguendo la storia Addirittura Non è vera questa cosa Sì no è vero È vero È vero Sennò non so dove cazzo andare Cioè Sono solo costretto Hai la lucina che punta Verso il prossimo boss La grazia Non l'hai notata? Se ne ha corto sì Eh sì ce l'ha Ma è vero Non hai mai aperto la mappa L'hai mai aperto la mappa Sì Ma quindi quella frete Quello indica Sì Una frete Alcune grazie Hanno una lucina Che va in quella direzione Sì è la direzione È il tuo Benissimo Oh Dai Mind blown Perfetto Eccoci Non c'è la più oggetti Però questa cosa guarda Che non è una cosa così inusuale Cioè di accorgersi Di una meccanica di gioco Solamente alla fine Quando si è completato un gioco Magari che Ti avrebbe semplificato la vita Fin dall'inizio A me è successo spesso A te Michele per esempio È successa questa roba qua Di non accorgerti Rispetto a come Stai scherzando Nell'episodio 52 Dell'anima della scoperta Della mia blind Scopro Solo dopo Dopo quindi Circa 50 ore di gioco Rain man Io sono sicuro Adesso voglio vedere Voglio vedere la chat Perché tutti Tutti i bravi Con i segni a terra E le guide Ho scoperto Che se tu da caso Hai un Cursore Su un oggetto Nel menu E premi L'analogico sinistro Ti appare un sottomenu nascosto Che ti permette Di mettere gli oggetti In ordine di acquisizione Solo se il cursore Su un oggetto Però altrimenti L3 non fa un cazzo Ma veramente In ordine di acquisizione Cioè quindi Puoi sapere Qual è l'ultimo Che hai preso Esattamente Devo andare a giocare La mamma puttana Ma soltanto Alla luce di questo Un pochino Ok Io non Ora Come ora C'è qualcosa Che mi sta sfuggendo Sicuramente In chat Cosa Effettivamente Mortacci Loro Io mi ricordo Di essermi fatto Pokémon Fino a Credo Forse Bianco e nero Senza Sapere cosa fosse Repellente Dai Nanni Ma questo Non è una cosa Che non si è Visto Se senti Vabbè Vabbè Perché No Però Almeno Legge C'è scritto Subito Non è che Devi analizzare L'artwork Anche la cosa Della muleta Nanni Mi credi tu Sì Racconta di questo Aneddoto Che è interessante Sempre io Certo Io ho giocato Elden Ring E l'ho Offeso Per Circo 80% Il suo gioco Perché era Estremamente Difficile Cioè io Per un boss Di trama Impiegavo Tre ore E tipo 60 Tentativi Di media E comunque Ho giocato A tutti I titoli Della saga In modo Tranquillamente E Solo che mi sono Accorto Sì Che avevo I due Amuleti Che mi Aumentavano Il danno Ricevuto Per 1000% Quindi Io venivo Fermo Asciottato A qualsiasi Boss Perché Nanni È il cool kid Cioè ha letto L'oggetto Aumenta la forza Però non ha letto La seconda parte Dove sì Però i danni Sono doppi Occhi È vero Sigma Comunque Sì sì Sigma male Assolutamente Sigma Nanni E invece voi ragazzi Vi siete mai accorti Di essere stati dei gonfi Ne devo trovare una Perché ce ne sono state tantissime Di cui alcune mi hanno fatto Mettere la testa nel cesso Anni fa forse Qualche anno fa Quando non si leggeva un cazzo Da nessuna parte E tu giocavi Che bello Quando non si poteva leggere niente A me sta accadendo Ve l'ho detto anche prima Off live Con Tunic Che è un gioco Secondo me Allucinante Che se non vince Il miglior indie Di quest'anno Sarebbe un omicidio Perché È un gioco Che ti fa riscoprire La gioia del manuale Perché il manuale È interno al gioco Praticamente Te hai questa mappa In isometrica Tipo La mappa Di Links Awakening Però solamente Con una telecamera fissa Che puoi Girare solamente Fino a un certo punto Puoi cambiare Solo leggermente In quadratura E in giro per la mappa Trovi delle pagine Del manuale Che raggruppi Che puoi consultare In ogni momento Del gioco Come se il giocatore Si allontanasse Dallo schermo Per leggere questo manuale Ed è molto figo Perché il giocatore Prima di te Non si sa chi Ha notato appena Delle cose Quindi te Piano piano Trovando sempre più Pagine del manuale Esplori sempre più Questo mondo E capisci i segreti Di questo mondo Secondo me È una bomba E mi mancano Molti i manuali Secondo me Potrebbero essere Inseriti come features Si cerca di fare I 3D Il VR Tutte le robe Ma secondo me Inserire queste robe qua Proprio analogiche Funzionerebbero tanto Ma non ci spende Inscription ci hai giocato Dario Inscription ci ho giocato Sì Mi è piaciuto un botto Ma mi ha fatto anche Incazzare terribilmente Quel gioco lì Sul finale Perché il fatto Di andarmi a informare Di andarmi a studiare Una roba Per dare un esame Per capire la fine Non è che mi sia piaciuto Proprio tantissimo Capito Non so se hai provato Anche te La stessa frustrazione Sì Inizia in un modo Finisce in un altro Diciamo È la verità Insomma Quel cambio di scena Dopo un po' M'ha rotto Perché pensavo Ciao Sara Andasse in una certa direzione Ciao Sara E E effettivamente Poi Il bello è che Si è visto Il hue labiale Ma non si è sentito nulla Ciao belli Buonasera Buonasera Ciao Sara E aspetta che faccio così Perché Karim Sta guardando A sinistra Ecco E No questo mio No dai Scusami 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 E comunque Però Cioè di una cosa Nico Che Nonostante questo Sono riuscito Ad apprezzarlo Perché È uno di quei giochi Che ti stupisce E ti fa gioire Del fatto Di affrontare Il medium Videoludico Rispetto a un altro Medium Perché C'è interazione C'è lo sfondamento Della quarta parete Cioè ti senti partecipi Di una storia Non so se L'hai mai provato Con un altro titolo Io con quello Forse Undertale E Infatti stavo per dire Undertale Appena hai detto Tutte queste cose E qualcuno Ci è triggerato Perché Per Undertale Karim forse Di uno No C'è uno che stai Sto sorridendo Mi da fastidio Che non giocherò Ad Undertale Esatto Chi è che Sono d'accordo Andrebbe insegnato a scuola Ma aspetta Perché Karim Eri ironico Perché non ti è piaciuto Undertale No non è che non mi è piaciuto È che proprio Ci ho provato Giuro Ci ho provato Perché gioco Qualsiasi cosa Quindi figurati Se non ho provato A giocare ad Undertale S'ho rotto I coglioni No Ma proprio Ma vaffanculo Andy Govation Scusate No no Oh my heart Ci ho provato Ci ho provato E c'era qualcosa Che mi agganciava Ma poi mi perdeva Mi agganciava E mi perdeva Mi agganciava E mi perdeva Cos'è che ti faceva annoiare? Allora Il problema Non so spiegartelo È il problema Del È incredibile Undertale E io lo so Che lo è Ma non Fino a dove sono Fino a dove sono arrivato Io È zero Non c'era niente Che io non abbia Già visto In altri giochi Ma tu dove sei arrivato? Ho fatto tre ore Quindi non ti so dire dove Non è tre ore Perché esistono le tre ore mie Esistono le tre ore di Sabacuc Eh ma vedi Non te lo so dire Tre ore umane Vabbè ma tre ore Obiettivamente Avrà visto giusto L'introduzione di Sans Di alcuni personaggi Effettivamente Sì Hai fatto Forse tre ore Sei alla zona di ghiaccio Bravissima Sai che forse sì Forse mi sono fermato Proprio lì Ma non era brutto Lì è RPG classico Sì sì Proprio il classico Sembra un RPG classico Sembra Esatto Fino a lì Certo certo Ma infatti so che c'è qualcosa Però non So che c'è qualcosa Sono di quello Guarda se lo dicevo Non ti avrei creduto mai Infatti non è Ma manco lontano Infatti non è ancora successo Si è incazzato anche Farence Tra l'altro per Undertale Tipo insultato A diritto Solo che lui non aveva capito Che c'erano più run Che doveva affrontare il gioco Con vari approcci Quindi è un casino Perché io lo capisco Anche da quel punto di vista Cioè Ok dovete giocare questo gioco Però consci Che ci sono varie strade E lui dice Sì ma perché mi devo fare una A priori Il gioco me lo deve dire Mi deve far capire questa cosa In realtà Secondo me te lo dice il gioco All'inizio Cioè di Più o meno sì Dai te lo dice È come Nier Automata Sono quei giochi Dove devi farti più run Per capire effettivamente Quello che è il gioco E potrebbe sembrare Che ti stai facendo La stessa cosa In realtà è totalmente diverso Però Ovviamente li devi esplorare Ecco io appunto Sara Proprio per questo Nonostante il culo Della protagonista E la geniale La geniale Mossa Cioè meccanica Dell'autodistruzione Che tra l'altro Fatta in acqua Lo consiglio Perché il culo Diventa lucido Cioè diventa proprio Ancora più potente No lo consiglio È una cosa che c'è Esiste Gli sviluppatori Beh c'è il fanservice Che è palese Ci ha impegnato tanto Yoko Taro Scusa diamogli atto Di questa cosa Io l'ho droppato L'ho droppato No Non hai fatto gli altri finali La seconda run Mi ha talmente rotto il cazzo Con le navicelline del cazzo Che Francesco scusami Io li amo gli shumps È tutto hacking Sì la seconda La seconda run È abbastanza uff È tutto hacking È un po' Il giro Cioè è un po' La porta coi sassi Dice O lo apprezzerai Da questo momento in poi Oppure te ne vai a fanculo Questo è un po' Il principio E io sono andato a fanculo Ahimè Perché mi stava piacendo molto In realtà Perché la terza È un sequel E funziona molto bene Esatto È la terza Quella giusta Effettivamente Però Lì sono giochi Che devi aver pazienza Ne vale la pena Come and È un po' tipo Le serie tv Quando magari Inizio una E fanno No ma Poi di stagioni Poi carbura Che odio Quella frase lì Che odio Quella frase lì Mamma Dovete mettere Dragon Ball Super No ma dopo l'episodio 48 Migliora Cioè mica dopo l'episodio 48 Dragon Ball Super Guarda lo scontro Con Freezer Goku Incredibile Ho capito Ma alla fine Cioè ma Stai scelto Torrio del potere Ho capito Ma cioè Ci sono 50 puntate Prima Quindi boh Io non capisco mai E il problema Infatti è la seconda run Che affossa un po' Il ritmo Voi avete un'opinione forte Cioè un gioco Che vi hanno rotto il cazzo Provalo 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 E poi quando l'avete provato L'avete troppato Persona 5 Della Stovass Madonna Sento male Poi un colpo dopo l'altro Mi è arrivato Mi anch'io E' molto più basso Vai Undertale è più basso Della Stovass Se non mi è piaciuto Perché si ne è Cioè Persona 5 Beh un po' intuisco Però insomma Potrei argomentare Ma ti dirò solo una cosa Cos'è questa cosa? Ti dico Solo guarda Te lo ripeto Perché potrebbe non essere chiaro Il concetto Basta Aspetta Fammi pensare Ma non ti piace Cioè è troppo lento Lo consideri? Quale è il problema? No Allora Io quando ero Post puberale Ho avuto un periodo Molto asiatico Nella mia vita Manga di qua Anime di là Anime style Allora Atsune Miku di lì No Atsune Miku ci sta ancora Perché per me è un sintetizzatore vocale E sono un musicista Quindi sono ancora rimasto In quell'ambito Quella è la scusa Questa sape che è la scusa È l'autoconvincimento Io l'ho scoperta da sintetizzatore Perché volevo un sintetizzatore vocale Ho scoperto che la Yamaha Aveva fatto questa cosa E tra l'altro Miku non è la prima Con cui sono entrato in contatto Ma proprio quelli E nemmeno io Con due tizi anonimissimi Mask e femmina Ce l'ho presente anch'io Lola è come cazzo Si chiamava Bravissimo Lola è quello che non si sa Esatto E l'altro cantava tipo Ragazzi Prendetevi una stanza Che cazzo Vabbè È un periodo della vita In cui leggevo un botto di manga Guardavo un sacco di anime E ho avuto subito il rigetto Cioè nel senso Ho cominciato ad avere il rigetto Per certi tipi di manga e anime E Persona 5 È catastroficamente purtroppo Tutto quello che più odio Nella narrazione anime e manga Concentrato in un unico prodotto Che mi ha attirato Millantando di essere un videogioco Intendi personaggi stereotipati Quindi la Non sono d'accordo Non il personaggio stereotipato Proprio il tipo di narrazione Il tipo di animazione anche Queste facce immobili Con gli occhi che tremano E loro che fanno Di continuo A un certo punto si stacca Si vede il semaforo che cambia Tornano su una faccia Di nuovo Ma che cazzo di persona hai giocato Ma che cosa Persona 5 Persona 5 Persona 5 Dario Dove il tutorial dura 9 ore Ci hanno detto Dopo 9 ore 12 Cioè io uno schermo nero Uno schermo nero Neanche 16 noni Quattro terzi Lo apprezzo di più Mi fa Mi fa Mi fa Una persona immersione però Quando entri nel bar E ti insegna a fare il caffè No E poi Di queste cose A lui Aveva detto Ha chiesto opinioni forti Ma infatti ci sta E lei All'inizio c'è lui E ti dà la stanza Opinione forte Ricuro lì È il massimo Che riesce a fare No però Adesso ci penso Un'opinione forte Ci ragiono Fammi ci ragionare Voi intanto andate avanti Ho ragione No no io non sono d'accordo Con Sinergo Ma semplicemente perché È una presa per il culo Persona 5 Cioè Quello che hai detto te Persona 5 Lo annienta In un certo senso Perché nella narrazione Di Persona 5 Tutti i mondi Che te descrivi E anche di più Perché si parla di mafia Si parla del governo Giapponese Si parla della società Giapponese Proprio I giovani I vecchi I politici Vengono tutti blastati Dalla narrazione Del gioco Chiaro È difficile Esorbirsela Perché ci sono Tantissimi dialoghi È molto parlato È molto lento Come dice Sara Ti devi parecchio Immergere nella storia E questo è un po' Anche qui lo spartiacque Tra chi c'ha voi E chi lo droppa Per quello Però se vai in fondo A persona E soprattutto Affronti l'ultimo boss L'ultimo dungeon Fai Porca puttana Questi sono sciroccati Vi prego portateli via Incatenateli Perché sono Sono tosti Però rientra sempre Nel discorso Di investimento Tempo Cioè io mi rendo conto Che arrivato All'età che ho Cioè nel tempo Che ci mette Persona 5 a ingranare Ho giocato 8 indie Della madonna Ma c'è un gioco Invece che ti ha Rubato tante ore Di cui sei stato contento Sì Assolutamente sì Cioè Half-Life 2 L'ho rigiocato 5 volte E ho rigiocato Non l'ho nominato io Ho giocato 5 Ora abbiamo 5 Mario No Man's Sky 5 volte No Man's Sky Mario No Man's Sky No Man's Sky No Man's Sky La partenza Esatto 5 E la prima volta Che l'ho giocato L'ho giocato 5 volte Esatto A te piaceva No Man's Sky Prima versione Sì Cioè quando Sai perché Il diario I suoi diari di board Erano bellissimi Eh ma perché Per me era Era una cosa Talmente tanto Strana Talmente tanto nuova E non sapevo Dove sarebbe andato a parare Se mi avessero detto Al day one Guarda che ci mettiamo Le case Le coltivazioni Diventa proprio Come tutti gli altri Survival E dopo Però devi avere pazienza Non l'avrei comprato Mi piaceva Che strano Il nulla Però in potenza Adesso è un giocone Della madonna Adesso è veramente bello Cazzo Eh non mi piace più No Adesso è un giocone Adesso Non mi piace più Cioè da quando L'hanno reso Multiplay Da quando l'hanno reso sociale Da quando ci hanno messo Perché adesso ci hanno messo Dentro tutte le cose È meno procedurale È meno procedurale È meno strano Però all'inizio Giocandoci era quasi mistico Adesso sai troppo Che cosa c'è Perché era una continua ricerca Di quello che non era stato Era punk Era punk Ah neanche questo Bellissimo Non ti scocciava Che fosse tutto uguale Cioè non ti riempiva la borsa Sta cosa che No ma io ho capito Cosa intende Anch'io Guarda Io Non mi ha capito Io Non mi ha capito L'ho platinato L'ho millato Sì Perché comunque Ti catturava tantissimo L'attenzione Il cercare di capire Ma quindi Ma quindi C'era la lore sotto No è vero C'era con i miei pezzettini Vabbè sì Era un po' una cazzata Non era proprio Non era proprio Però Giuro Io sul finale di Non Man's Sky Della prima versione E Mario lo sai Che mi ci sono chiuso Giornate in te Io credo che Non Man's Sky Su Non Man's Sky Abbia fatto una chiusa Di quelle proprio da Da quindicenne Che non mi potevo permettere Alla fine di Non Man's Sky Ho buttato il joystick per terra E sono uscito È un po' una presa per il culo Non sono andato in bagno Non so perché Ci ho cacato No sono uscito Sono uscito Perché è veramente È una presa per il culo Era una presa per il culo È quello che è successo a me Con The Phantom Pain Pensa un po' Ma lo fa Però lì è comprensibile Conami lo fa Finale che bu Sono uscito No io intendevo recentemente A parte il The Ring Se c'è un gioco Che nonostante La nostra vecchitudine Ci ha effettivamente Inchiudato alla se Vabbè Nanni non lo escludo Perché è un Ikigobori Praticamente Finisce un gioco Vabbè ora scusami però No Beh è vero Sono accuse pesantissime No no Cioè ultimamente Veramente Cioè finisci un gioco Ci stai scendendo Ecco Cazzo ti sei chiuso con Coromon Ora è bellino Coromon Ma Dio buono Cosa? È meraviglioso No è bello Ma Dio buono Ma non puoi Che non abbiamo mai avuto Ho capito Ma non puoi rinunciare A trombare Per giocare a Coromon Sei pazzo È benissimo Nanni Dimmi l'ultima trombata Che hai fatto Forza subito No dico Nel senso Ecco E allora non parlare No hai ragione Dico questo lo dici te Che non posso Posso perché l'ho fatto Eppure Eppure Se te la prossima C'è il wipe di Tarkov Eh va a far Oh no Fake news Fake news Come? L'hanno confermato oggi Come l'hanno confermato oggi? Vai a controllare Francesco No Si è perso Nanni No Adizio Nanni Io non ti conosco bene Ma ti flaspo Cioè questa cosa è vera Vediamo Controlla Controlla Io vorrei che sia il wipe Controlliamo in diretta Dammi le proof Io so che c'è stato l'elemento Non ci sono i trader E tutto Me l'hanno comunicato Quindi potrebbe essere Ma chi te la colore mosca Chi te la colore è mosca? Chi te la colore è brucato? Ma qualche imbecille Ma allora non è una fonte Ah beh ma sono quelle voci Fonte fidati Credimi Ecco fidati di me Grazie a te Sappi che il meme Il wipe giovedì Non va più di moda Da almeno due anni Ah c'è un meme? Si Quando è il wipe giovedì La risposta è sempre giovedì Francesco mi spieghi una cosa Dato che siamo qua Mi puoi spiegare Cosa ti piace di Tarkov? Senza polemiche Senza polemiche Voglio sapere Cosa ti piace di Tarkov? Mi piace che A livello di realismo È quel che più si avvicina Alla realtà Secondo me Dalla mia esperienza Di fuciliere È quello Ed è molto difficile Come gioco A parte che questa frase Andrebbe stampata in 3D Perché Dalla mia esperienza Di fuciliere No Beh per l'assemblaggio armi È pazzesco Tarkov Cioè puoi veramente Disassemblare Qualsiasi arma Come se fosse vera Quindi penso No ma è quelle componenti Le componenti reali Si io ci ho giocato A Tarkov per un po' Poi non è Non è il mio genere Però più che altro Perché c'è Simone Rosini Che ammazza me Invece del Ah è vero Con Simone c'è giocato Cioè hai giocato anche tu Con Simone Ho ammazzato In un americano Simo ero io Vabbè Guarda I due team killer Per eccellenza Sono Simone E Fabio Rovazzi Cioè veramente Non ho giocato con Rovazzi Ma Simone mi ha ucciso Un sacco di volte Quindi Si è figlio No ma Rovazzi Guarda che è chiusissimo Io ho avuto Rovazzi Rovazzi Tu coglioni Così eh Io ho avuto Io ho avuto Delle team kill Da lui Fantastiche Cioè è tipo Che mi ha sparato Fino a quando Non stavo morto a terra Ignorando Che dicendo Sono io No io non riesco Anche Nanni è fissato Io non riesco Proprio a Ma perché io non ho pazienza Fondamentalmente Con Con questi tipo Cioè veramente Io quando c'è uno Nel mezzo Nel mezzo Nel mezzo allo studio E fa Audio Cioè veramente Io già Bu faccio Questi sono Ricoglioriti Non ce la faccio Proprio capito A farmi piacere Questo mood qua Poi sembra quasi Un horror Cioè c'è sempre L'ansia Che ti spari Infatti è bello Per quello Quello è bello Non lo so Solo per l'atmosfera Secondo me Da tanto Soprattutto Sulla notturna Caghi veramente sotto Però Però è È un gioco Che Devi avere le tue ore Per capirlo bene Per apprezzarlo bene Altrimenti lo odi È molto complesso Ma poi sta cosa Devi fare lo zaino Mi sembra Tanto a scuola È come persona È la stessa cosa È il contrario Dici Tanto per come persona 5 Sì 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 Con la differenza C'è bisogno di skill Eh va bene Scusate Guarda che mega horror Senti nel silenzio Simone che mangia i cracker Senza motivo Beh Ah già che si sente È vero Il suono dei cracker Sì Tranch Però Sara Mi hai promesso La tua opinione Pericolosa Allora Com'è che si chiama Però ce l'ho su un telefilm Non su un videogioco Videogioco ti giuro Ci ho pensato Non mi viene in mente Su un telefilm Dimmi Su una serie Su una serie famosa Che piace a tutti Cioè Che a me però non piace Come si chiama quella Dove c'è la gente Che va a rubare in banca Ce n'è tipo La casa di carta La casa di carta Ma cacare a tutti Ma fa stifo al cazzo È orribile È bellissima Io sono arrivata Al quarto episodio In orribile Ma scusa Ma è Paso Adelante Con le rapine Tutti mi dicono È bellissimo Guardalo È stupendo Mio Dio La nuova serie Ma oggi Hanno annunciato La casa di carta Corea Corea Sì è vero Quello lo guarderò Fosse una fake news No 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 Non è una cazzata Karim Hanno annunciato La casa di carta Corea Lo guarderò Sui cura Magari non è indecente Beh ma I coreani le sanno fare La differenza degli spagnoli Che ammettono sempre Il drama Esatto il drama Che palle Quando immettono il drama Tizio che si scopatizia E poi con gli altri Cioè C'è anche C'è anche la Corea La Corea è famosa Per il drama Però le serie Drammatiche coreane Sono un attimino Più profonde Rispetto a quelle spagnole Di solito Poi c'è caso è caso Secondo me Quello che ci incuriosisce È il fatto che affrontano I problemi Affrontano le relazioni In maniera totalmente Diversa rispetto a noi E quindi Quella affascina un po' No Perché vedi Totalmente un altro Modo di fare Quello Non so perché Se ne sono accorti ora Se ne sono accorti un po' tardino Però meglio tardi che mai Insomma Va bene così Te Karim Io sono curioso della tua Ce la vai No figliore A parte ti garba Michael Bay Ve lo so Però Vabbè ma lì È il vero cinema Cioè quando vado al cinema Voglio vedere Michael Bay Non voglio vedere Sicuramente Bellocchio Per quanto mi piaccia Però Capito No Lascia stare Sui videogiochi Rimangiamo Se possibile No No Vittor ha una faccia strana In questo Non usi un Dolby E un Atmos per guardare Bellocchio Ho capito ma non sei a Garda Non concivo quattro didi Oh madonna E dinosauri di pompa E allora me lo guardo a casa Capito Ma che casa Tanto deve uscire la nuova serie Su Aldo Moro Di Bellocchio Madonna non vedo l'ora Ah pensavo di Michael Bay Immagina Aldo Moro E Santa Inizia a fare tutti i misteri d'Italia Michael Bay Bellissimo No Allora Ti posso dire Se proprio la vuoi Estrella Però lì è a gusti Vai La parte spaccatile Identico E che Secondo me Dopo Il primo Zelda Il primo Pernes Fanno tutti Una noia Sono una noia mortale Fino a Breath of the Wild Tutti 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 È il motivo per cui Non ho giocato a Tunic Non ho giocato a Tunic Perché è identico ai vecchi Zelda E si può rimanere lì Può rimanere lì Ma io ti vengo sotto Ti taglio le gambe Ma io ho detto Sono gusti Infatti non ho detto che fanno cagare Ho detto che sono una noia mortale Che è diverso Ma perché non ci sei giocato È possibile Però non credo Che sia per me Ma cazzo In Major Smash C'hai una luna Che ti viene addosso E che se in cinque minuti Fai un dungeon Esplode il mondo Come fai a essere noioso Io mai in questa vita Mi sarei aspettato Di difendere Nintendo Porca miseria Non ti so dire Non ti so dire Non li ho finiti tutti Questo posso dirti Però Major Smash Ocarina of Time Sea Ho finito Minish Cup Ho finito Non ti so dire Major Smash per me è il peggiore Il peggiore degli Zelda Non ti so dire Ma perché Froze Stavi andando bene Perché Perché a tempo Cazzo Ma a tempo Dar Non è che mi si sta sul cazzo Grazie a Lorenzo Il più bello Il più bello Rimane Anche a Tarkov è a tempo Finché uno ti silura nel cervello Vedrai A tempo No Volendo In questo modo Perché quando puoi le siluri Tu è bello Però Per me Il più bello Per me il più bello Rimane sempre Ocarina Come si chiama No Ah The Wind Waker The Wind Waker Ecco Fortissimo gioco Potentissima potenza incalcolabile Ma com'è poi se carino Io questa cosa di te Non la sapevo Ma perché È il mio gusto Purtroppo le avventure Alla Zelda Mi annoiano molto Mi annoiano abbastanza Effettivamente Stavo Tralasciando Wind Waker Che è stato forse Quello Che meno mi hanno Per l'esplorazione Phantom Hourglass L'hai mai provato Quello su DS Che devi usare Quello col trenino No Quello è Spirit Tracks Ah Spirit Tracks È vero Li ho provati tutti Però a memoria Non riesco Phantom Hourglass È praticamente Wind Waker 2 È bellissimo Sì È così bello Molto bello Sì sì Più che altro Per quello dicevo Che è strano della noia Perché lo stilo È stato impiegato In qualsiasi maniera possibile Come in Tearaway Il pad della Playstation Io ormai L'ho raccontato Troppe volte Penso sia superfluo farlo Ma è stato l'unico videogioco Della mia vita adulta Che mi ha tenuto bloccato Per due giorni Phantom Hourglass Ah perché l'hai recuperato di recente No In realtà no L'ho giocato Al day one Però non era un bambino Non siamo più giovani Eh no è vero Lo scordo sempre Scusate Ma neanche Breath of the Wild Breath of the Wild No no Fino a Breath of the Wild No fino a Breath of the Wild Ma perché Breath of the Wild È meno Zelda di tutti Per quello che mi è piaciuto Certo Ma non è vera questa cosa È un po' sì Ah sì No sì È il primo remake praticamente Breath of the Wild Cioè È il primo fatto No più o meno Sai che cos'è il primo Zelda? È Elden Ring Elden Ring è il primo Zelda Guarda quell'altro come ride Guarda l'altro come ride Si avvicina di più al primo Zelda Che a Breath of the Wild Secondo me Però vabbè Breath of the Wild C'ha altri cazzi Perché è più open intendi No perché Ma che non c'entra assolutamente niente Ho scoperto di essere il moderatore della tua chat Ah ok Cos'è successo? Perché? Non lo so È perché quando abbiamo iniziato Ti fesci il moderatore proprio di me Ah Occhio ragazzi Ma posso scrivere le parolacce Fantastico E nessun moderatore mi può fermare Ma tu anche In chat mio si possono scrivere comunque Sì 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 Tanto Francesco ti ricordi Quando ci fescero fare Il placement di Three Force Heroes Ammette Merrino Sì Allora io Quello è stato proprio Una cosa infamante Cioè Il bello Sapete Che poi avevano chiesto A me di coordinare A te E a Marco Merrino E io ve li sono presi I cascchiatori da Nintendo Per voi Per colpa tua Io non l'ho fatto Io mi sono attenuto Al briefing Sì tutti si è attenuto Ma per me Io ero d'accordissimo Su quella cosa Però Porca miseria Questa è da raccontare Perché Posso raccontarla Poi Poi di tutto tanto Ci sono quelle figure lì Non ci sono più In Nintendo Quindi vai pure A ruota libera Ah ok Allora perfetto In poche parole Che è successo Il fatto era questo Dovevamo giocare Al gioco Vabbè C'erano varie condizioni Tutto qua Però Tra le varie Diciamo Tra i vari punti Da rispettare Era anche il fatto C'è da riportare I seguenti punti Allora Che sono 20 nuovi Fantastici Abiti Che puoi indossare Così Due scenari Mozzafiato Che fai Così Cristo Madonna Tutti gli angeli Incolor Insomma Tutte le cose messe Non mi ricordo Di questo particolare Esatto Vabbè Ma faccio breve Insomma Succede che noi Ovviamente Non riusciamo a infilare Queste cose Non solo Non riuscivamo A metterle Nel discorso Ma Dovevamo Riportarle Praticamente Con enfasi E non Del tipo Oh ma Comunque Tra due giorni Ci saranno No Ci saranno No Fantastici Vestiti Era un altro Era un altro Tipo di Era diverso Ti strappò Le vesti Di dosso Insomma Successe che Lì però La tua Fu una manifestazione Giusta Secondo me Anche se poi L'ho subita io Lo subito Le conseguenze Praticamente Dario che faceva Noi giocavamo Normale A un certo punto Random Appena c'era una Trigger world Che poteva essere Vestito Livello Personaggio Roba del genere Partiva con la voce Standard Ma lo sai Che dal 24 aprile Favano disponibili Cinque nuovi livelli Tra cui giocare E partiva Leggendo Lettera per lettera Parola per parola Quello che c'era scritto Nelle indicazioni Sino a quando appunto Non le ha lette tutte E io adesso Ci siamo rimasti E c'era Marco Marco che Ogni cazzata Facessi Bravo Dario Bravo 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 E ci fecero un culo Appaiolo Allora Ci dico solo Dario A me erano partite Presente straformali Come la nintendo Sempre Formalissima Sì grazie Siamo arrivati al Ci siamo sentiti Presi per il culo Proprio scritto Testuale così Vi dico solo questo Mamma mia Sì sì Ma noi li facciamo così Ormai placement Anche con la Tomodashi Io ricordo La mia live migliore Del canale La live su Elisted La migliore live Anche quella dove abbiamo Comprato i respiratori E' uguale La batte La live su Elisted Si abbiamo fatto Live di beneficenza Abbiamo comprato i respiratori E quella è una merda Rispetto alla live Che abbiamo fatto su Elisted Dove a un certo punto Ci siamo messi A inquadrare i cerchioni Abbiamo visto le piante Locali della mappa Abbiamo chiamato Zeus Park Lo senti ma che pianta è Questa vid Dove si trova Cioè veramente Bellissimo Però non ce l'ho detto nulla Bonifio è arrivato Vieni tranqui Ma perché secondo me Le aziende hanno capito Che lasciarci Carta bianca È ok Sì no fortunatamente sì Ma sono cambiate molto le cose Adesso È così Adesso Adesso Certo Non del tutto raga Fidate Non del tutto Ma voi siete Mario Voi siete nella lista nera di tutti Non potete parlare di questa cosa Voi tu No 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 Guarda abbiamo Abbiamo anche rapporti Con persone nuove Non siamo proprio in lista Con alcune di queste persone Eppure Eppure mi cacano il cazzo ancora Cioè Madonna Allora c'è tanta gente Che non ha capito Che Se tu fai uno spot Come negli anni 80 E Il pubblico di youtube Che è scappato dalla televisione Perché la odia Esatto Si sente indispettito Però vogliono che tu faccia Una marchetta palesissima Tu gli presenti un progetto E gli dici Senti amico mio Questa cosa non funziona Fa incazzare il pubblico Mi rovina il video E il tuo brand ci fa una figura di merda Esatto Te la scrivo di una sceneggiatura Gli scrivi la sceneggiatura La leggono Bellissima Fa spaccare Però Di sti 5 minuti 3 devono essere spottone Cioè Non capiscono come cazzo funziona la pubblicità E Non capiscono Io mi permetterei di dire qualcosa di un po' più pungente E chi del cazzo Non capiscono come funziona la comunicazione Questo è il loro lavoro È vero Ma non è il loro lavoro Il problema di fondo sia quello Che le industrie non hanno ancora capito Come si fa la vera comunicazione online O la vera pubblicità online Pensano che ci siano dei babbei qua dietro Che non abbiano mai fatto della pubblicità E non sappiano comunicare con gli utenti O far cliccare un cazzo di link Perché è quello che Non solo quello La maggior parte delle volte è quello Ma non considerano neanche gli utenti In generale E non sanno Non capiscono Che ogni Ogni creator Ha un certo tipo di rapporto Al suo stile Esatto E il suo stile con gli utenti D'accordissimo Ma C'è un altro problema Tra l'altro O appunto Come ho detto prima Sono dei vecchi del cazzo Quindi c'è una mentalità appunto Da televisione anni 80 Sono d'accordo con te È vero Non serve Quasi Allora A volte sono giovani Che sono vecchi dentro Braviglia Quelli che arrivano col cappellino Con l'elica Yeah Adesso facciamo Il pronto Nella vita E poi ci svolgono lo spottone Te lo inquadro ancora meglio Vai Che Il neolaureato in marketing Che è tutta teoria E niente pratica Cioè Che è tutto quello Che a livello Appunto Teorico Sa tutto Ti sa dire Che vuol dire questo termine Quell'altro Gli indici Così Ma all'atto pratico Non sa un cazzo Cioè Non ha aperto un video Di vita sua E non sa come si comporta un creator Cioè Quelli sono i peggiori Che sono i vecchi Per me è ancora peggio Perché Spesso arrivano dicendo Vogliamo farti Fare questa cosa qua Ma vogliamo che tu la dica Nel tuo stile E dico Ok Gli scrivo la sceneggiatura E no Così non va No no va bene Madonna Ma perché È troppe parolacce Ma poi chiedono le sceneggiature È mega spilente Quando Cioè tu sai Come comunicare al tuo pubblico Però ti cambiano tutto Perché Eh no Però secondo me Sarebbe meglio così Ma scusami Io conosco il mio pubblico Cioè Lasciami fare il mio lavoro È il mio lavoro Cioè mi hai assoldato Fidati di me Se no perché Non mi hai assoldato Allora devi fare la mossa chad Come la mossa chad Eh la mossa chad È una volta che successe È sempre S'ho cambiato Le versioni di Nintendo Sì so cambiato Beh Dì la mossa chad Giuro 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 Generico Giuro 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 Quella La ragazza Che Una ragazza Per essere generici adesso Ok esatto Una delle Di un'altra marca Una delle No 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 Devo dire perché va Tanta marca La Cilio La Cilio La Nive No allora La cosa più bella Che può succedere È quando Hai un placement Di un gioco Che ti interessa È la cosa più bella Che vuoi fare Allora Questo è successo Con Splatoon 2 Splatoon 2 Lo attendevo tantissimo Ci ho giocato parecchio Avevo un accordo Con Nintendo E lì è successo Eh però Questo non va bene Questo non puoi dire Cazzo non lo puoi dire Questo non lo puoi dire Questo non lo puoi fare Sai che ti dico Ciao Il gioco me lo compro E lo faccio Lo faccio Lo tratto come mi pare Cioè quella è stata La cosa che ho fatto No no chiaro È l'unica L'unica speranza Più che alti Noi quando Recentemente Siamo dovuti Contrattare Allora Culo lo posso dire No 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 Nanni Aspetta È successo La scorsa settimana Aspetta Un po' Vabbè 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 Non è mica No no Ragione È vero Sbattiamoci le calze È vero Abbiamo dovuto Contrattare Esatto Noi che comunque Nel nostro linguaggio E le nostre comunicazioni Siamo molto diretti E molto Terra terra Sbordate Cose varie No Siamo molto insomma Grevi Spesso e volentieri Contrattare addirittura Su Merda Cazzo Culo Cioè evidentemente Non può funzionare Non può funzionare Comunque Perché c'è un pubblico Un'utenza Che è abituata A tutt'altro La tratti Come scema Se Li presenti Il pacchettino No ma non sto scherzando Mi sono ricordato una cosa Aspetta Aspetta un attimino Aspetta perché Devo dire questa cosa Poi vi passo la parola Ci hanno detto Veramente ragazzi È tutto vero Allora vi concedo Un cazzo Ma mi levate due culi Non è una battuta Non è una giuro Non è una battuta Vi lasciamo un cazzo Cioè tipo i cartellini Uomo Di Dr. Cox Cioè dopo il guerrilla marketing Questo è l'Holy Fund marketing Praticamente Mamma mia Io Glielo proposi a battuta E questo L'ho messo seriamente Allora va bene Ti ruolo un cazzo Però mi metti due culi Va bene Lo scherzavo Come dal macellaio Sì sì Come dal pizzicagnolo Avevate il contatore culo Contatore cazzo No stavano così Ci guardavano così Tipo Gendo Così Vabbè Vai Nicola Prego Dicevi Noi Noi avevamo Non so se lo sapete Noi abbiamo prodotto Dei piccoli falli Di diversa tipologia Sì Perché uno Nella tazza qui dietro Il cazza fa Mia sorella è super fan Del vostro cazza fa È uscita male Sara oggettivamente Così è un po' brutto Malissimo Però è fan Ne abbiamo fatti diversi No? C'hai una sorella Bella Sara Ne ho tre Vabbè poi ne parliamo Dai vai Nicola Abbiamo fatto questo Questo cazzo Poi abbiamo fatto La versione in legno Limitata Ok? E l'abbiamo messa Malauguratamente Sul nostro Instagram Chi ci segue Chi ci segue lo sa Che è ormai Un marchio Riconosciuto Non è una roba Sessualizzata Assolutamente È una cosa per far ride Certo Chi ci aveva chiesto Di fare Un determinato Tipo Mario ride Chi ci aveva chiesto Di fare Un determinato Tipo Di placement A un certo Io non posso Non posso Di niente di più Quindi non mi chiedere Un cazzo No 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 A un certo punto Ci ha detto Ragazzi Ma È che È grossa Se la sparo È molto grossa Soprattutto C'è una Sovrastruttura Grossa Che ha detto Hanno visto Da Sta sovrastruttura Grossa Che avete messo Dei cazzi Su Instagram E questa cosa Non possiamo Fare assolutamente Più questo Product placement Ci sta saltando Tutta l'attività Col cliente Dobbiamo Rimaneggiare Tutto Hanno dovuto Fare un giro Come ti capisco Della donna Francesco È un altro discorso Però ora ci arriviamo Da te Per questo argomento Però Cioè Secondo me Questa cosa Io ho sentito Parlare tutti E praticamente Tutti stanno Raccontando La stessa storia Soltanto che Non dicono Questo dettaglio Che secondo me Ti fa capire tutto Cioè Chi ti contatta Per farti fare Un product placement Sotto sotto Non ha mai visto Neanche un minuto Di quello che fai Allora Allora Maio Dimmi quante volte Hai sentito questa frase Ah Quei due sul server Cazzo Ho visto Tutti i vostri video Voi spaccate Siete numero uno Quanto mi fate ridere Con quel video Eh Cioè Non fanno nulla Palesemente Non hanno mai visto Un cazzo Però Però si parte da lì Capito Parti da lì E purtroppo Se tu non sai A chi ti stai rivolgendo Non sai neanche Quale sarà lo stile Che adotterà Quindi tu A priori Non sai Se puoi veramente Dirla la fatidica frase Di prima Cioè Dillo nel tuo stile Come diceva Karim Però magari Il mio stile Ti fa cagare E non ne puoi avere Idea Se non ti vai A perdere cinque minuti A guardare un video Perciò prima dicevo Cioè Non sono esperti Di marketing Di comunicazione Guardano I numeri degli iscritti Che poi non è che siano Quelli che devi guardare Se vuoi piazzare Un placement Come Dio comanda Ci sono altre cinque cose Almeno che devi guardare Guardano il numero degli iscritti E dicono Ok Gli porto sto numero qui Al piano più alto Perché funzionano così Sono stratificati Al piano alto Lo c'è un vecchio Sì Al vecchio Perché sopra E' tipo Elden Ring Capito C'è il lord decaduto Elder Ring Però in questo caso Elder Ring Secondo me qualcosa Lo guardano Cioè magari si guardano Qualche live Qualche pezzettino di video E si creano un'opinione In tre minuti Le ultime Te non fai testo Te non fai testo Sara Perché ogni brand Che si sveglia la mattina Prega a Dio Che sei nata E che sei su Twitch Secondo me Perché non dici una parolaccia Sei pulitissima Bravissima Non è vero Invece non è vero Guarda Quando siamo stati al Detatron Il Masseo parlava pulitissimo In confronto a me Io proprio perché Non sono abituata a censurarmi Anche quando vado in situazioni Magari pubbliche Io non mi censuro Lui magari è più abituato Beh ma io dico su Twitch Non è che ti bestemmioni Ti ho visto giocare a Coso a Come si chiama Eurotrack simulator Hai fatto il camionista Non hai detto manco Ma come fa bestemmia Cioè inammissibile Non eri in RP 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 Non è sghertano No no Comunque sì No te sai C'hai proprio un approccio diverso Da nostro No noi siamo dei portuali Poi Karim è bravito Ecco Karim è un po' Con l'uccello Si può dire tranquillamente Non Cioè è una persona Pulitissima Io l'ho visto Pulito Sì Adesso parliamo di Satisfay ragazzi Non sono ancora capace io Non è vero Ti giuro No dai Sei bravo dai No è che semplicemente È troppo un finto Perché tipo Io che devo parlare di Satisfay Nel 2022 Io ti ho visto Ti ho visto parlare di Satisfay Non è vero Sei bravo Non è quello È che per me Dire a una persona È come spiegare come funziona Una tavoletta del water Mi sento un coglione Perché tutti lo sanno E io glielo sto spiegando Ogni live Non ti credere Ma spiegare l'ovvio Fa parte del nostro lavoro Io sto cercando di combattere Per questa cosa qua Ogni volta Ogni volta che devo fare qualcosa Gli dico posso Perché loro mi dicono Fai vedere questo video Non Satisfay Ma altre aziende mi dicono Fai vedere anche questo video Mentre ci parli sopra E spieghi cosa Gli ho detto Posso non fare questa cosa Ma ti paghiamo E mi paghi la metà E posso non mettere il video Sì esatto Queste cose le dico anch'io Esatto Sai cosa dicono? No No O ti paghiamo questo O non ti paghiamo proprio Ma se mi paghi la metà Va benissimo Perché quattro livelli sopra Hanno deciso che quella Deve essere la formula E quindi È difficile Una volta non ci posso fare Ti faccio una menzione Mi sembra Assurdo Ma anch'io patteggio un sacco Perché a volte mi chiedono cose Che sono veramente Sembrano veramente uscite Dalla melevisione È vero che io ho un linguaggio pulito Però non ti faccio la scenetta Allora ti piace questo telecomando Ne vuoi comprare sei? Cioè a volte ti chiedono cose Di questo tipo Capito? Quindi sai Bisogna patteggiare comunque Patteggio anch'io Una volta io non riuscivo a levarmi Dittorio un brand di scarpe Perché voleva mettere Il placement Io faccio i video a mezzo busto Come cazzo le mostro le scarpe Non mi mollavano più Ma no ma tu potresti Tipo a un certo punto Sollevi il piede Ma stavo scherzando Ma sì Che le vendite con le scarpe così Come fai? Continuavano Ti stai leggendo la chat Spero Però guarda Io avrei colto la palla al balzo Avrei fatto il video Piano francese Sui piedi Senza far vedere la bata La faccia Avrei fatto tutto così Avrei sfruttato l'occasione Per leggere Un video intero di Victor Normale Però è quadrato sui piedi Però con i piedi Sì sì Senza spiegare niente No ma questi Questi racconti Sono stupendi Io mi sto scoprendo In una posizione Un po' particolare Perché Allora Sai perché la tua posizione È particolare Perché sei troppo buono Sei troppo puro Bravo Sono d'accordo con Francesco Sono d'accordo con Francesco È vero Sicuramente anche per questo Non sei un capone come molti di noi Ma c'è un'altra ragione C'è un'altra ragione Ma parla per te Non come tutti noi Basta Allora In realtà è vero Sicuramente è vero Ma c'è un altro filtro Ossia Visto che io Non sono mai stato tipo Da andare a bussare Ehi vuoi una sponsor Da Sebacu Cosa del genere Già molti anni fa Mi sono affidato A un management Un management Come si vuol porre l'accento A seconda di UK O USA Vabbè ora E quando No perché No 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 Non è Non è mia Non è mia precisione Perché mi scassano Il cazzo da anni Ma te fai vedere la fava Sbattiti il cazzo Ma mica la fava Vedere la fava Ti scassiamo il cazzo Il mio simile Non la fava Se non ci fosse il banditwitch Ti ci giuro Mamma mia Vabbè Quanti buchi di culo Però Infatti questo È che Dopo le iniziali Terrificanti Feroci discussioni Con suddette persone Perché si aspettavano Che io sarei stato Ciò che non ero Hanno capito Esattamente La mia lunga Lunga Lista di no E mi fanno passare Talmente poca roba Che quindi Non ho queste brutte esperienze Perché tipo C'è una cosa Due cose all'anno Ah perché Perché te hai Dei don't Tuoi Quindi Sì E quindi Non mi arrivano nemmeno Quelli che farebbero Fare certe esperienze No ma Le regole ce le ho anch'io Io come il filtro Esatto È buono così Eh sì Esatto Certo Magari si lavora Molto meno Però Dico Certo vieni No esatto Cioè ti Non devi supportarti Un sacco di rotture di cazzo Così obiettivamente Rendi Esatto Ti stressi meno Infatti Non vogliono Vedi Rendi Rendi Allora Andrea 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 Ma immagino Renn 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 Cioè dal principio Gli va bene Non gli va bene Ok Perfetto Esatto Quel che è al limite Anche io ho questa regola Io ho un solo filtro I give I guess Sì Ecco la roba lì Io ho un solo filtro Anzi noi possiamo dire Nani Ci abbiamo un solo filtro Ci fate fare quello che vogliamo Sì Ok allora accettiamo Ci date troppe limitazioni Non si fa Per esempio Io chiesi a Ray Shadow Legends Posso scrivere nel titolo Che è una live Che faccio per comprarmi il pavimento Dello studio Loro dissero Sì vabbè Loro ho scritto live Per comprare mie mattonelle Dello studio E accettarono E lo feci E mi misi a chiacchierare Con la chat E misi il gioco In automatico E vabbè Però è così Insomma In automatico Sì sì Giochi automatici Bellissimi C'era io che parlavo Con la chat Ah sì sì no Certo Kenshiro Un bellissimo manga E tanto c'erano quei rieri Facciano sì E vabbè Le vedono V Sono degli adv Che vengono veramente Spammati da anni Anche già da youtube Quindi capirai C'è alcuni che hanno fatto tutti Tutti Che non conosco Crieto Che non li hanno fatti Quindi Raid Poi chi c'è sta Cosa c'è sta Raid forse almeno una volta L'abbiamo fatto Non dico tutti Ma molti E adesso NordVPN ha comprato Chiunque NordVPN Pensa ce l'abbiano tutti Da dove arrivano i soldi Il sistema di NordVPN Ma guarda Il sistema Il sistema di NordVPN È giusto Allora a parte Uno perché lo stavano già scrivendo Da prima in chat Poi se noi parliamo di VPN In un qualsiasi contesto La prima cosa che ti viene in mente Qual è? Cioè se tu avessi avuto bisogno Di una VPN Ce l'hanno fatto È la prima cosa che ti viene in mente È come la pena Perché è ovunque Pensa alla Bic subito Ma poi è un ottimo servizio Quindi ci sta dai Sì Ma poi ti lasci la libertà totale Puoi fare veramente Ma Sara Le hai fatto una marchettata Gratuitissima No vabbè Io non l'ho fatta No no Io non l'ho fatta Però nel senso Buona comunque Sì sì No per quello intendevo A me non mi hanno mai dato Una key Non mi hanno mai dato niente Ma lo sono comprato Eh No Perché dico Vabbè Se vogliamo fare Il gioco delle marchettate gratis È una cosa che ho anche raccontato I ragazzi Quando Finalmente Anche accettai E feci NordVPN Ci fu un'azienda Che mi dite il codice Tieni Eh no ma io ho già l'abbonamento Quindi non l'ho fatta Usarlo E che l'avevo già comprato io Ah tieni Eh no Non posso farci niente Tienetelo voi Però dammelo lo stesso C'è qualcosa ragazzi Che fareste gratis Per la gloria Per la gloria Ce ne sono stati tanti No non in passato Non in passato Io dico adesso Genshin Impact Genshin No è come soldi No è come soldi Alla fine Sì Non è tanto soldi Per una valuta Ecco Ah Sapete cosa vi posso raccontare Che paura No no Mi è venuto in mente Perché È floso Mike Sì Il mondo internazionale Soprattutto Non conoscono Che succede Qua nello stivale E quindi io Tipo due settimane fa Ho aperto la mail Non l'ho mai raccontata Questa cosa Perché questa è un'occasione Bellissima Avevo Qualcosa come 52 pagine Ahia Sì 52 pagine Di mail Hey Ti va di sfumare Le rune in vendita Per Elden Ring Sei proprio bravo No Io cosa Perché su Elden Ring Ci sono studi Che ha senso Le rune in vendita Lascia perdere Sarà Sì sì In un videogioco In un videogioco Action RPG Single player Con multiplayer Specifico Insomma Blablabla Vendono come Negli MMO Le rune Per livellare Ma che cazzo Te ne fai Non ci posso Niente Eppure A quanto pare Tirano volto Perché se ho 52 pagine Di richieste Di spam Sì no È la stessa cosa A me per esempio I roba Gente che vende Che poi tra l'altro È contro il regolamento I rubli Su Tarco Vabbè sì Come gli Adena Su Lineage I soldi Warcraft I gold I trapianti di capelli Però la differenza Questa è un'altra cosa Sia le rune Ah Sinergo Posso darti un consiglio Non tatuarti mai le tempie Mai qua Non ti tatuare mai qua Grazie che me l'hai detto Perché domani mattina Ho un appuntamento No Perché non so se lo sai L'ho scoperto Tramite un video Che ho visto Se ti trapianti i capelli Hai dei tatuaggi Sulla testa Non ti posso Trapiantare i capelli No un video E quindi che Ma Dario È normale Nel pub Cambiare argomento In metà frase Ma completamente Un'altra cosa Capito No non è il pub Restorming E so io Più che altro Ti preoccupare Ti ho scordato pure il mio Delasto Vasto di Primo Esatto Delasto Vasto Spiegaci perché non ti è piaciuto Chiedo Ah giusto Che stavamo ancora parlando Scusa Però hai gettato il sasso Adesso lo raccolgo un attimo Vai Posso sapere il motivo scientifico Per cui un tatuaggio in testa Non ti fa fare l'altra pianta No È perché Bruci credo Il La zona del bulbo Dove risiede Il bulbo Perché ti fa ridere il bulbo No mi fa ridere il video Che ho visto Che mi sta rivenendo in mente Tipo Vietnam Ma scusa Quindi se io mi faccio un tatuaggio Al braccio Non mi ricresce più il pelo Sul braccio No no ti cresce Ti cresce Però in testa C'è un altro sistema Comunque Non lo so È un video papelico Vattelo a recuperare Appena poi Perché È italiano Il video È italiano È italiano È italiano Sì 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 Allora chiedo Ok Come si intitola il video? Cosa non fare quando vuoi Peso 122 chili di massa magra Se do calcio un culo a un tizio L'ammazzo Così questo è il video Buonissimo Ho capito Ho capito Ho capito No no È così Allora vabbè Se non ci vuoi credere Grazie Però No ragazzi Scusate che ultimamente Mi sono fissato a qualcuno Cosa ridite Cosa ridite Che mi sono fissato Con questo piccolo movimento Che vabbè Comunque non importa Frozen Perché non ti piace The Last of Us È un film interattivo Ecco la cazzata Via Oggi l'abbiamo sperato No non è la cazzata Oggi abbiamo sperato Una in più Una in meno Allora No 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 È sbilanciata La storia A discapito del gameplay Cioè io Ci può stare una narrazione Più profonda Vedi per esempio Metal Gear Solid Da me sta bene Asgana Flow Cioè scusa Metal Gear Solid 4 È meglio di The Last of Us A livello di interazione Di trama e gameplay Il 4 lascialo fuori Mettiamo No è certo È bellissimo Vabbè non tutti Perché a questo punto Puoi brillare Guns of the Kalosin No allora Per dirti In generale Vabbè il 4 È un argomento Appunto a parte Come per esempio Io sono un grande Affassionato di Joven Empire Se Joven Empire 3 Per esempio Non esiste Cioè c'è sempre Un errore Nel sistema Beh come Devil May Cry 2 Come Sacred 3 Come tanta roba Non stessi L'identica cosa Vedi lì il fatto Cioè lì hai Comunque una storia profonda Una loro importante Tante cazzini Tante spiegazioni Ma hai anche Tanta azione Tanto tipo di gioco Che comunque È tutto sommato Libero The Last of Us Ho fatto 10 ore di gioco Mi sono veramente Rotte le palle Ma in una maniera Incredibile Sì sono tutte Ma proprio tanto Ma anche nel 2 Sia l'uno che il 2 Il 2 Chi l'ha preso Perché abbiamo fatto schifo il primo Cioè il suo figuro di secondo Schifo addirittura Francesco No sì Lento Pallo lento Però c'è da dire Francesco Che te l'hai molta simpatia Per la narrazione All'interno dei videogiochi Ma dipende Perché io comunque Sono un cultore Per dire Delle avventure grafiche Cioè a me dipende Non Sì sì E questo lo sai Cioè però Certo Quando praticamente Prevarica La storia Le cutscene Le cose scriptate Rispetto al gameplay Mi infastidisce parecchio Cioè è questo il discorso Non è che non ti piace la trama Non ti piace la storia Schipi dialoghi No Ci deve essere il giusto bilanciamento Che in The Last of Us Non c'è Sai che io nel 2 Ho patito la cosa opposta Cioè io ho finito The Last of Us 2 Unicamente per Per la storia A un certo punto Mi sono rotto i coglioni Di giocare Non ne potevo più Io l'ho trovato È molto più lungo Sì è metà Metà ha trovato Perché è molto lungo Una delle esperienze Più belle della mia esistenza Anch'io Oh siamo d'accordo Su una cosa Sì no comunque Ma come Sono su Zed È incredibile Prova Se trovi il modo Di recuperarlo in qualche modo Prova qualche Sessione Di gameplay E gunplay Di parte 2 No però Mi chiede Aspetta Io ti fermo subito Perché se te Da qui Io Allora io Adesso ti guadrò Tutti i video E tutte le live Se io ti sentirò Mettere la doppia pronuncia Come cannarsi nei video Io ti giuro Ti segnalo i video Ti faccio parlare No 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 Allora Scegli una pronuncia E sbattiti nel cazzo Di bellarti critico Non ho parlato di due pronunce D'accordo Hai scritto Gameplay Di truccato ragazzo Ho distinto Gameplay No 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 Gunplay Gunplay Ah gunplay Ma va Fanculo E peggio ancora Per questa cosa Perché pure a me Ogni tanto dicono Eh ma non si deve La pronuncia Cioè il gameplay Cioè il gameplay Sono due cose diverse Sì sì avete ragione Scusate Ok Ok nerd Dai Che figura Che figura No Voi neanche offendere Quando hai torto Scusa No 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 Ho torto Ho torto Ho capito le due pronunce Perché prima ha raccontato La storia Delle fazioni Sono a sega Ok Te l'aspetteresti da Mike Ma non in questo caso No no infatti Infatti Vabbè dicevi il gunplay Di le pistole Eccetera No no Che parte 2 È una madonna In quello Eh no È fatto bene Rispetto al primo No È molto meglio Anche l'interazione Col secondo personaggio Non è male per niente Anzi c'è un'interazione Più vera Più realistica Molto 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 È proprio bello A me è piaciuto tanto Anche lì Appunto il Il gameplay E mi è piaciuto tanto Anche il gameplay Anche il gameplay Soprattutto quando poi C'è la modifica delle armi Quella cosa lì Come sono belle Le animazioni studiate Per ogni arma Diversa Sì 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 Quella roba lì è figa Ma poi la storia del 2 C'è È bellissima Parliamo Io pianto per 20 ore Dopo il finale È straziante No poi È veramente difficile Farti cambiare opinione Su un personaggio Che hai amato In un primo capitolo Così tanto In un secondo Perché quando hai L'imprinting Di un personaggio che ami È difficilissimo Cambiare Però nel primo Il 2 riesce a fare Il 2 riesce a fare questa cosa Ti dice delle cose Pesanti Lo capisci che tipo di uomo è Sì però Cioè il 2 Riesce veramente Ad aprirti gli occhi In un modo che dici Non lo credevo possibile Sai Michele secondo me In un modo E finisci in un altro Sai perché secondo me Sara dice questo Michele Perché Ellie in un certo senso Joe Lo addolcisce Nel corso della storia del Io parlavo di Ellie Non parlavo di Joey Ah parlavi di Ellie Io parlavo di Ellie Io sono d'accordo Con lei comunque Sì sì No Ellie ovviamente Ma certo Io parlavo di Ellie Non di Joey Ok ok Io non l'ho vista Cioè io De Last of Us 2 Non l'ho interpretato Come un Ok parteggiamo per qualcuno Io l'ho No 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 Io l'ho compreso Come un Ok ragazzi Siamo in un mondo Post apocalittico Dove La Vince C'è chi è più forte E più furbo Questi sono i due punti di vista Delle due fazioni Come vedi Hanno tutti e due Delle ragioni E tutti e due Dei grandi torti Cerca di non fare Il testa di cazzo Per favore E questo è Questo secondo me È un po' Lo spirito del gioco Il fatto che TDA Delle facettature Multiple Che non ci sia Il buono e il cattivo Questo è figo No no infatti Però appunto Ti fa cambiare l'opinione Nel senso perché Tu sai Vedi Ellie E dici Mass protect Nel primo capitolo Nel secondo Inizi uguale Come attacco dei giganti Cambia qualcosa Diciamo si spezza qualcosa Nel mezzo Ecco È molto difficile Cioè la narrazione Secondo me è incredibile Proprio per questo Ha un paio di parti Un po' tirano la corda Ha qualche cosa Un po' Ha un paio di scene Che io avrei Asciugato Tirato un po' meno Sì però Secondo me la cosa Che fa quel gioco lì È che io ho arrivato a metà Ero incazzato Perché ho detto Ma io non voglio giocare Con questo personaggio E arrivi alla fine Che lo ami Che lo ami Sì è vero Non mi è mai successo Di cambiare Io piangevo tantissimo Alla fine Con il pugno Io piangevo Io ripenso Senza spoilerare La scena finale Nonostante sia un po' Troppo lunga E forzata Però stai male Sono due amebe ormai Come ammazzare Sif È pesante Stai troppo male Io quanto ho goduto Quando l'ho visto Zoppo Ho detto Boh è un boss facile Va a fare un culo Maori merda Non vedevo l'ora Eh sì perché Quando sei Zoppo Sei contento Che ce la fai Ma fra un modi ai luci È il bel momento più alto Stato volcane A me è che mi è capitato Durante l'ultima live Di incontrare Sif Cioè Secondo tentativo Soddisfacente A me stanno Sul cazzo i lupi In una maniera Ma nei giochi ovviamente Io ho goduto Ce l'ha tutto lasciato in lacrima La prima volta All'ammazzare Ho finalmente un boss Che faccio fuori alla prima Meno male Via ciao Ci si rivede Poi sì C'è la grande storia È tipo È tipo A Cico Via lui Però Basta A Cico Sì A Cico Che aspetta Difende Che poi lo becchi No a un certo punto Mia fratella Lui è difficile parecchio Come boss Non lo ricordo parecchio Vabbè Sono storie vecchie queste Dai E Non voglio più parlare Di Dark Souls Madonna Che Scusate Rottissimo No 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 Rottissimo No era per tirare fuori I sentimenti Che sono quelle cose Che le fai Perché devi andare avanti Nel gameplay Ma non vorresti farle Un po' come appunto Di capito Ti capita spesso Di emozionarti Con i videogiochi Sì Mi è capitato anche oggi Con Elden Ring Non dirò per cosa Però Oggi Oggi è venuto da piangere Perché non volevo fare una cosa Vaga 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 E ho finito la quest di Runny Ti dico solo questo Ah ok E mi ha fatto piangere Io ieri Sara Parlando di emozione Mentre si guarda un film Si legge un fumetto Si gioca un videogioco Ho suddiviso l'emozione Cioè la commozione In due categorie Dimmi se ti ritrovi La prima categoria è Il pianto Per un momento Di drammatico Che esplode O sul finale O in un momento Cruciale della storia Mentre l'altro Un momento di commozione È per l'impatto Emotivo Anzi no Per l'impatto artistico Per la potenza artistica Di una determinata scelta Registica Magari non è un momento Propriamente drammatico Dove muore qualcuno C'è una perdita C'è una malattia Ma è fatta talmente bene Quella cosa Che ti immedesimi Nel creatore Di quella cosa Sì e dici Cazzo ma È tipo il sindrome Di Stendhal Ok Ma c'è Ma no ho capito Cosa vuoi dire A te capita Spesso questa cosa Ti faccio un esempio Non so se avete visto Code Geass Il Geass Il Geass su Euphemia Ah sì Quello è un momento È un momento Che è talmente forte Che Cioè stai male Cioè io sono stata malissimo Per la scena Sì è uno dei pochi Deus Ex Machina Usciti dal culo Che sono contestualizzati Con decenza Porca miseria Quello è potente Quello è una scena potente Pure non è una scena Strappa lacrime Però è talmente forte Che a me ha fatto piangere tantissimo Code Geass è strano Code Geass è strano Perché in realtà Ha delle scene forti E belle Teatrali E funzionali Come quella Dopo episodi In cui hai Clark Kent A scuola Con i capelli di rosa Alti tre metri Che nessuno riconosce Grazie Ok sceneggiatura Sto con te Sto con te Resisto Resisto Eh devi aver pazienza Però Giochi Giochi con cui ho pianto Io sotto Mi ricordi Adesso Solo To the moon Stavo pensando A To the moon Quello però è proprio drammatico Lì proprio L'altro side Che diceva Dario Volevo morire dentro Sì sì Quello è come una Tempesta Una tempesta Negli occhi Proprio le foglie Sì 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 A me ce ne sono troppi Veramente A me Undertale Undertale Ecco Undertale Uno di quei giochi Undertale pure Undertale sì Ma come cos'è Cioè Dio buono I peccati ti corrono Sulla schiena Io c'avevo il cazzo duro E spaccavo la scrivania Spoiler No No ma non ho detto Non mi risulta Ci fosse un cazzo Che spacca le scrivania In Undertale Ma anche stra No no lo so Comunque Sì È proprio Cioè In quel momento lì In quella scena lì Francesco Te sei uno dei pochi Che mi può capire In questo momento Anche perché mi ha indirizzato No no Te mi chiamasti Mi ricordo Quando ho cominciato Ander Mi raccomando Dario Persisti Persisti Non mollare Resta determinato Resta determinato Sì 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 Ecco Io quando ho visto Quel personaggio Che hai sempre visto Sorridente Felice E tutto Giudicarti È imparziale Lui no Cioè lui decide Se passi o meno Con quella cattiveria Con quella forza Fai Io Io volevo Ho cercato Toby Fox E ti ha capito Tutta la vita Ti prego Trombami Adesso Cioè questo è Quello che volevo dire Questo mi dissocio Non l'ho pensato No vabbè Ho capito Però In Undertale c'è anche Vai vai Scusami Vai 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 C'è anche un C'è un momento In cui Ti danno Un Un indizio Su un certo personaggio Non dico Quando Leggi una certa cosa E capisci La vera natura Di un certo personaggio A me Io mi sono sentito male Sì ho capito Chi l'ha giocato Capisce subito Quando capisci Il dramma Di quel personaggio E il perché Fa così Io sono stato malissimo Perché ho detto Ma porce non è manco Non è una cosa che puoi Non riuscivo a metabolizzare Stavo malissimo per lui Death Stranding Che ancora ci sto male Anche solo a nominarlo E io ancora non l'ho giocato Death Stranding Eh io Death Stranding Credo sia Uno dei giochi Forse che mi ha fatto stare Più male in assoluto Io ancora se sento La musica del BB piango Madonna Ecco Allora Io ti devo tirare una lista Di giochi su cui piangere veramente Cioè Lacrime Ma credo dipenda tanto Io pianto un sacco Nei videogiochi E nei film E nei telefilm Ma non tanto per qualcosa di Cioè che ti dovesse Effettivamente far piangere Ma ci sono dei momenti In cui empatizzo Talmente tanto Con una frase O uno sguardo Ma in cose strane In cose Che non mai mi sarei aspettato Cioè io ho Lacrimato Come un deficiente In una singola scena Di Red Dead Redemption 2 Che è una missione secondaria Dove lui Parla con un Con una suora Se non mi ricordo male Alla fermata del treno E dice una frase E si Gli hanno fatto Gli occhi lucidi E la voce rotta Che si stava Per mettere a piangere E io sono Crollato Perché mi ci si sono Rivisto da morire Però Poi capita che Mi distruggano Delle scene Che in serie Che non avrei mai detto In vita mia Tipo E 13 Ho visto 13 Questo Ed era una serie Un po' del cazzo Ma la scena finale Della vasca Quando la madre Trova lei La relazione della madre Che L'attrice Che proprio Cambia espressione O Sono crollato Non ho più smesso Fino ai titoli di conto È stato terribile È stata forse Una delle scene peggiori Che abbiamo mai visto Concordo con te Mi sono un po' Rapportato Capito Stai parlato Dell'ultima stagione No No La prima No La prima La scena di lei Nella vasca Quella scena lì Io ero così incazzato Che non mi sarei commosso Neanche se mi avessero Fino alla penultima puntata È stato un crescendo Di merda Perché è partita bene Ma poi è andata Malissimo La prima stagione Anche già la prima Ma la scena di lei Anche io Che apre la porta E vede La madre Sì Oh mio dio È stato terribile Sì Della figlia La figlia Veramente Era da Cioè No Non dico niente Perché veramente Era testa di cazzo Però Anch'io Ho empatizzato Tantissimo Con la madre Veramente tantissimo Cioè Mi sono stata male Per la madre Tantissimo L'occhio della madre L'occhio della madre Sì Io Anche su esempio Come diceva Sara Prima Su Death Stranding Sulla musica Per esempio Su un videogioco Non ho mai Non credo di aver mai pianto Da nessuna parte Cioè Mai giocando Non ho stato io Comunque guardando film Se la tv Sia molto emotivo Cioè Per esempio Sto guardando Scrubs Per assurdo E ogni quattro episodi A caso Mi piangiste A notte Tipo alle cinque di mattina Però Recentemente Ho giocato Un gioco Che non avevo mai giocato Che ho recuperato Solo perché C'è la colonna solare Di Steven Whitson Che è cantante Le Porco Point 3 Che è Last Day of June Mi sembra si chiama È italiano quel gioco È bellissimo E quello Cioè Mi ha fatto proprio Alla fine Vabbè Quello ti smuove I sentimenti Sì Però non è stato Tanto per la narrazione Quanto più per il contesto musicale Che comunque Ti crea l'ambiente E ti dà quel pathos Che poi ti Vabbè Last Day of June La Collector Anzi la Deluxe È un pacco di fazzoletti Lo sai Cioè Sono proprio i Kleenex No non lo sapevo Questa ganza Sì Io avevo La Deluxe È un pacco di Kleenex Proprio per piangere È bellissimo È come Carmageddon 2 Che ti davano il sacchetto del vomito Bellissimo Bellissimo Non so in quanti lo conoscano Perché abbastanza Somma Anche se ultimamente Ho sentito tanta gente Che me ne ha parlato A me l'unica cosa Che mi ha rotto Definitivamente Proprio emotivamente Negli ultimi Forse vent'anni Che mi ha portato Proprio il groppo in gola E i lacrimoni È stata La scena centrale Di Cast Away on the Moon In cui c'è un uomo Che mangia delle tagliatelle Non so se avete visto Non ne so niente Sì 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 Allora Cast Away on the Moon È un film coreano Geniale Che praticamente parla Di quest'uomo Che si butta da un ponte Perché vuole farla finita Perché è pieno di debiti Pieno di cose E praticamente Finisce nel fiume Sottostante Non annega Nonostante lui Non sappia nuotare E rimane intrappolato Su un isolotto del cazzo A due metri Dalla metropoli Da Seoul E quindi lui fa un naufragio Alla Robinson Crusoe Ma vede passare le macchine Vede la gente Soltanto che nessuno Se lo caga Perché sta su questo isolotto In mezzo al fiume Che fico E parla di un uomo Si reimbastisce da zero La sua vita A un passo dalla civiltà Ma nessuno sa che lui È il No bobbissimo Lo devo vedere cazzo Come hai detto Che si chiama Cast Away on the Moon Allora raga Fatevi un favore Guardatevi Cast Away on the Moon E fidatevi La scena in cui lui Mangia le tagliatelle Vi spaccherà a metà Davvero Vi spacca a metà Ti giuro Dario è mostruoso Dai no Lo voglio recuperare Cazzo Anch'io No lo sai Perché parlandomene No Ho pensato subito a Come si chiamava Ferro 3 Ferro 3 Ferro 3 È il film Esatto Perché anche lui Anche quello era un po' surreale Anche lui giocava un po' sul Fighissimo Vabbè cazzo Me lo voglio recuperare Me lo voglio recuperare Figo Io invece mi ricordo Ancora nitidamente Il momento in cui Proprio mi sono rotto in due Con Zelda Breath of the Wild Ma è un momento Proprio stupido Cioè perché Nessuno mi ha detto mai Ah Sì Dai Effettivamente Mi ha emozionato quel momento Quando ti affronti Il boss Diciamo così Nell'acqua Ok Con gli Zora Ok A un certo punto Te sfidi il boss Correndogli Di Diciamo Di lato Ho capito Mentre c'è il principe Che ti porta No E io ho detto Cazzo sto giocando Sto fatto come Come Michele Quando ha giocato Nel The Ring Cazzo Sto giocando Zelda Veramente Sto giocando Perché gli Zora Poi sono la mia razza Preferita di Zelda C'era questa musica Che ti sosteneva Di quando è vero Ha preso particolarmente Anche a me Anche per lo stesso motivo Vabbè l'emozione epica Quella Sì Quando vedi un trailer Di qualcosa Che ti piace tantissimo Bellissimo Nell'acqua La tempesta Beh ero proprio Fuori di me Fuori di me E ho ripercorso Tutte le emozioni Beh è una delle due Commozioni di cui hai parlato Ossia quella Scenografico Esatto Nell'esperienza D'impatto forte Eh sì E su Prime Che a volte ti viene Eh Cosa E su Prime Addirittura Mi sembra di essere No perché a me non lo dava Dai allora Dai Io vi dirò una cosa Impopolare Ma non so se avete visto L'ultimo Ghostbuster Io ci ho pianto Come un bambino Beh sulla scena finale Un po' sì Eh Ma pure Prime Cioè Poi perché là È tutto Cioè La story line È reale Purtroppo Protagonista Non c'è più Quindi Eh L'allà proprio Mi ha ucciso Adesso A vedere la cinema Proprio Un coglione Sull'ingresso finale Poi l'ultima botta Proprio Bastardi Madonna È quella Sì Quella lacrima Da nostalgia No perché La mano Nicola La mano Ah sì Casta Spendeteci sti so Poi se vi fa schifo Ve li dito io Ricordatevi di queste parole Dario parliamo un attimo Del finale di Toy Story No dai Karim No Dai Karim Posso Posso Vai go No spe Cosa Ammetto Toy Story 3 È piaciuto Da morire Però Demo Lui Allora Ti spiego come è andata Ok Io l'ho visto Tutto E mi è piaciuto Da morire Toy Story 3 Mi piace proprio Toy Story Pur non amando I film d'animazione Mi piace tantissimo Toy Story A parte che Già questa frase Ti potrei bloccare E dire Vabbè comunque Andiamo avanti dai Cosa vuoi dire Non ti piace I film d'animazione Non te lo sto spiegare Perché ho paura Delle ripercussioni No vabbè Karim Ma la carne Non mi sono emozionato Durante la visione Ma non ho capito Perché Ok Poi Ho Tipo un anno dopo Ho visto qualcuno Online Mi sembra in un video Spiegare qualcosa E ho detto Cazzo Ecco perché Non mi sono emozionato Praticamente Non mi sono relazionato Con lui Che a quell'età lì Da via i giocattoli Tristemente Perché A quell'età lì Tu te ne strafotti il cazzo Se tua mamma O tu Dai via i giocattoli Ed è quasi A quasi tutti È così Cioè E infatti È il pentimento Di quando poi Ai 30 anni Dici Porca puttana Ho dato via Tutte le mie carte Di magic Esattamente A quell'età lì Lì L'hanno romanzata Molto di più Di quello che è Nella realtà Per molte persone Non per tutte Ma per molte persone È così Almeno Tutti i miei compagni Di classe Tutti i miei amici Tutti quanti Quelli che conosco Era così Quindi per me È molto preponderante Ma poi ovviamente Non è per tutti così Però devo dire che Sì È stato quello Per molti A quell'età lì Dare via i giocattoli Non è così tragico Anzi Te ne sbatti il cazzo E li dai tutti I tuoi genitori Molto spesso dicono Possiamo dare Alla tua cuginetta Ma lì rimane sempre in famiglia Allora Non è quello il problema Non è quello Però aspetta Perché Andy Va al college E quindi non ha 30 anni Ne ha 18 È già una cosa Un po' diversa No no Esattamente Quell'età Ok aspetta però Se te guardi tutti i tre film Te noti una cosa di Andy Che Andy non è un ragazzo Non è un bambino Come gli altri Innanzitutto non ha Non so se l'hai mai notato Ma non ha la figura paterna Infatti anche la Pixar L'ha detto L'ha detto Noi non abbiamo messo il babbo Non è importante Lui è cresciuto Senza la figura del padre E lui Soprattutto all'inizio del 3 Ti fanno vedere Più e più volte Che lui è una persona Che sfogava tutto sui giocattoli Per lui i giocattoli Erano la vita Molto più che per gli altri bambini Per esempio Se te vedi Sid Lui li torturava i giocattoli Gli importava la sega Era il bambino più normale Sid in quel quartiere Perché tutti noi L'abbiamo spaccato Spetardato Staccato braccio Eccetera Andy invece no Andy teneva Ai suoi giocattoli Come se fossero Dei personaggi Proprio dei teatranti Nella sua immaginazione E quindi Andy Infatti lui li mette Nella scatola Lui è annoiato All'inizio del film Si rende conto Che sta crescendo Non che sta andando via I giocattoli Si rende conto Che sta crescendo Quando sul finale È obbligato A giocarci Con quei giocattoli Perché Deve Configgere La timidezza Di Bonnie No Ti ricordi Che lei si nasconde A lui Sì Le devi far avvicinare Esatto Allora Tira fuori I suoi giocattoli E ci gioca E in quel momento Andy si accorge Che sta crescendo E che deve andare al college Però gli rilascia Non è che Piange O si dispera Siamo noi che piangiamo Perché siamo cresciuti Con loro Capito Esattamente L'hanno rappresentata così Per quello Però a livello di logica Secondo me È ancora tirata È comunque tirata Pur con tutto Il passato suo Ok Però È per quello Perché mi era piaciuto Talmente tanto Infatti mi è dispiaciuto Vedere che Tutti hanno pianto Contro i story 3 Il finale Mi ha lasciato Un po' così E poi ho detto Ah forse Veramente per quello Secondo me Deve essere Di un lato No io L'ho vista Come ok Sto crescendo Anch'io come Andy Non ritornerò mai Più a quei tempi E ho pianto Perché ho dato L'addia a Woody Addio che poi hanno rovinato Contro i story 4 Che era senza senso E poi Soprattutto perché Anch'io sono cresciuto Con Andy Cioè io ho fatto Proprio le tappe Di Andy Certo non avevo 18 anni Quando è uscito Toy Story 3 Ma giù di lì Quindi insomma L'ho lasciato Anch'io L'ho salutato Infatti Andy Non è che si dispera Quando vede La mano di Woody Sollevata da Bonnie Ha un sussulto Però poi Vabbè Vado E va verso il college Perché quella è la sua vita E non lo so Sì è un po' tirata Forse Però Ma dipende Come affronti La scena Perché ovviamente L'hanno romanzata molto Perché era il finale Di tuoi storie Era il finale Della storia di Andy Era il finale Anche della tua adolescenza Se la guardi A livello In modo freddo E logico Come spesso Guardo le cose io È il motivo Per cui molto spesso Mi sono ammorbidito Tanto negli anni Tanto da riuscire A piangere Con 13 Eh già è vero Hai toccato Una vetta Molto importante Carino No però prima Guardando le cose logiche Appena c'era una cosa Fuori dalla logica Del realismo Mi faccia cagare Submediatamente Ok Quindi forse Guardandolo Da quell'ottica lì È per quello Che il finale lì Non mi è piaciuto È la spensionale Incredulità Forse Esattamente Avrei dovuto Lasciarmi assorbire Dal momento Invece che guardare Cosa stesse succedendo Perché è molto simbolico È come se Woody Salutasse tutti noi Che siamo cresciuti Sì esattamente Sì sì La scena è fatta così Per quello È interessante Perché non avevo mai sentito Sto parere Quindi è una cosa in più Che non sapevo Non avevo mai interagito Con una persona Che odiasse Che non gli conosce Per il finale Ok ci sta Ma Karim Dipende secondo me Da dei punti di vista Perché comunque A prescindere da giocattoli O meno Agli oggetti Leghiamo i ricordi Quindi anche il fatto Di separarsi Da un qualcosa Che ci ricorda Magari un momento Bello Brutto Liberarcene Suscita comunque Qualcosa È l'età che è sbagliata È l'età che è sbagliata Sì ma sicuramente Non è per tutti Però io so Che per un sacco di gente Mollare i giocattoli È un pentimento dopo Prima Hai interessi diversi Per me sempre Per esempio Lo è stato Capito Karim Dipende Infatti dipende Assolutamente Dipende Da come hai vissuto Dipende Devi considerare Che è anche metaforico Perché in quel momento Lo spettatore è Andy Eh sì Magari non avevamo Io avevo 20 anni Io ne avevo 22 A 19 per la precisione All'epoca tu comunque Cioè loro non sapevano Di fare il quarto Quindi quello era l'addio Quindi come Andy Abbandona Woody Buzz E tutti gli altri Sei tu spettatore Che stai dando l'addio A quei personaggi Certo Questo è stato vanificato Col quarto D'accordo Sono d'accordo Infatti il problema È stato non empatizzare Con lui Non con la scena Con lui Perché lui Era lui Che stava abbandonando tutto E io ho detto Non è così A me non è successo così E quindi Ho perso l'emozione È stato lì A puntare il telo A me Ho detto Bene A me non è successo così Fine È finito il film È semplicemente Hai sostituito La tua esperienza Con quella del protagonista Esatto Ma perché appunto Io ero molto fissato Con Vabbè Quindi Con Con il Che Appena una cosa Andava fuori Dalla Dalla Linea temporale Del realismo Mi dava Su cazzo Mi dava fastidio È una cosa che comprende Molto bene Comunque È che palle No però Sono cambiato Francesco Sono molto cambiato Mi sono rotto il cazzo Dipende dalle situazioni Dipende dal contesto Ecco Io sono sempre stato Un lacrimone Da Da questo Da questo punto di vista Però Cioè è una cosa Che riesco a comprendere Ecco diciamo Ok Sì 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 Quello che dice Mi tocca molto Perché spesso Mi capita di guardare cose Con persone Che magari mi dicono Ma non è realistico E io dico Capito è un fantasy Goditelo Oppure dico È un anime Prendilo per quello che è Cioè goditi il viaggio La storia Ovviamente Non sono d'accordissimo Guarda Your name Non l'ho visto Non l'ho visto Nenco io No è un film molto bello Parla della disattenzione Due piani temporali E uno dei due Si scorda di guardare Il calendario la mattina È una storia E' verissimo E' verissimo E' verissimo Ho avuto un sussulto Un attimo Per una Con la mancanza Ero lì che dicevo Come Vediamo dove Va a parare Vado a parare Che quel film Se non avesse Quella discreta Melodia di pianoforte Sarebbe solo una rottura Di cazzo Anche tecnicamente E' fatto bene E' fatto bene Secondo me Però Non c'è solo la tecnica Chiaramente Bisogna anche scriverlo Un film Lì purtroppo Si sono proprio Dimenticati A me è piaciuto Anche se venendo Da 5 centimetri Per secondo Mi ha molto deluso 5 centimetri al secondo Quella è stata proprio Prendi il cuore Appunto Dico Pensando a quello Avevo delle aspettative Un po' più alte Forse Può darsi Anche infatti 5 centimetri al secondo È molto più Potente Mi ha piaciuto molto Sì è molto molto bello Non ho visto nessuno dei due Sono Vai tranquilli Andate tranquilli Dai 5 centimetri È bello Dario Ma poi sembra un porno 5 centimetri Anche questa è uscita male Anche questa è uscita male Sara Un brutto porno Dai è bello È molto emotivo Aveva una bellissima animazione Al tempo 3 Grazie a Non so cosa dirti Sara va bene Se ti è piaciuto Vi sono con te Ci sta che tu non sia d'accordo Non è piaciuto Ma perché non ti è piaciuto Non ho empatizzato molto con Andy È quello che mi ha Sei veramente un paraculo Grazie Antonio Mi sento qui Buongiorno Mettiti in fila Grazie Ara Tutte le opinioni a noi Poi lui non parla Non mi è piaciuto Non mi piace proprio l'autore a me Non piace proprio quel linguaggio lì No È un linguaggio molto furbo È lui il paraculo Dei due E soprattutto con Your Name L'ho parlato mille volte È riuscito a A calappiare con furbizia C'è da dirlo Il pubblico occidentale Che ha visto questo Giappone Da cartolina Sia a nord che a sud E immediatamente Crede che la storia romantica Giapponese media Sia quello In realtà Your Name è molto Telenovelas È molto Irreale Come diceva anche Nonostante si parla di un fantasy Perché c'è un elemento Fantasy possiamo dire Fantascientifico Non so chiamatelo come vi pare Lo scambio Lo scambio di corpi Sì Però è rivisto L'abbiamo visto in centomila film E soprattutto Non mi piace Quando mi danno Quell'aria lì Del Giappone Io voglio un Giappone Come è Cioè io se prendo Tokyo Godfathers Lo scito sempre Per fare questo Bellissimo Tokyo Godfathers Vorrei vedere Con Non Luli Tenti quartieri lontani Che mi hai fatto recuperare Quartieri lontani È ancora diverso Però guardati Tokyo Godfathers Che mi pare c'è gratis È molto bello Su Prime Video Tokyo Godfathers Disegna anche quello Lui fa Lui fa Fa leva tantissimo Sul fascino di Tokyo È una Tokyo A dicembre Durante il periodo natalizio Piano di neve Vanno i soborghi Nelle retrovie Cioè tutto quello Che piace un po' All'occidentale Ficcarmi nelle vie Buie Anguste di Tokyo Ma Ogni volta Che questi tre Clochard Perché i protagonisti Sono dei barboni Che portano in giro Un bambino Da restituire Alla propria famiglia Che è quasi divino Questo bambino Ogni volta Che frequentano Un quartiere Una via Di Tokyo Capisci che Tokyo È una merda O comunque Ha dei problemi gravissimi Che nessuno Ha voglia di risolvere Di cui nessuno Si occupa A me piace quello Come recitava La sigla Di una grande serie tv Tokyo è una città Con luce e ombre Ogni quartiere È un mondo a parte Quindi A me piacciono Quei film lì Assolutamente Quindi ti piace Che facciano vedere Un pochino più Anche la parte nascosta Nascosta Ma Brutta Nascosta ma Alla vista di tutti Brutta e bella Cioè quando vanno Nello Kama bar Cioè il bar Dei travestiti Capisci che C'è più positività E ottimismo All'interno di quella Micro realtà Che invece In una grande azienda In un palazzo Cioè anche in Omunculus Un altro manga eccezionale Si fa questo parallelismo A me piace Questa roba qua Cioè Chi è sincero Con il proprio pubblico Infatti il cinema americano Mio preferito Non so cosa ne pensa Sinergo Victor Il cinema americano Più bello di sempre Sono messo e fatto Negli anni settanta Inizio anni ottanta Cioè quando Si Veramente Tirava frecciate Continue O addirittura Si criticava Aspramente L'America Cioè proprio L'America Carpenter Cronenberg Tobu Soprattutto negli horror C'era questa Scorsese Ma veramente Sì Scorsese Assolutamente Cioè Taxi Driver Per me è uno dei film Più belli di sempre Anche per questo La nuova O Ma già Romero Ma già Romero Mamma mia Romero ha dato La bastonata Da principe Proprio All'America Porca droia Da laureato un po' E mi garba praticamente tutto Cioè anche la roba Un pochino più Ma anche Nella serie B c'è la roba Bella Ti facci bella Corposa Bella Sta merda Vedi come Cioè Così Vabbè Però pensiero mio Ti piace lo sporco Insomma Mi piace lo sporco Nei fumetti Negli anime Nei cartoni animali Però mi gara anche la Pixar Mi fanno venire in mente Due film Da Tokyo Godfathers Che molto belli Vai Perfect Blue E Millennium Actress Vabbè Tutti i due Del mio fratello Con Compianto Certo Certo Lui era Bavac Come a Manicac Mi erano un attimo passati Ma mi sono venuti in mente Ritirando fuori Tokyo Godfathers Fighissimo Mike Segna Ma non Lui dice di sì Ma io devo fare Dei recuperoni Culturali Qui raga Te l'ho detto Scrivimi quando ti pare Io lo sai Quando posso Eh non so Ma è un po' di roba Che mi è passata L'ho già recuperata Mi segno anche questi Nanni è fermo No è fermo Non so se si è bloccato Nanni Ah sì Si era bloccato Si era pensato Si era un po' Si era un po' È pensieroso E te Karim Ah già Questa cosa Dei cartoni animati Però Qualche anime Lo seguirai L'ultimo che ho visto È stato la prima stagione Dell'attacco dei giganti E mi è piaciuta Un botto Però Solo la prima Come hai fatto a fermare Già Non te lo so dire esattamente È stato un po' pesante Era da tanto tempo E non guardavo anime Da un sacco di tempo E tutti parlavano Dell'attacco dei giganti L'ho guardata E mi è piaciuto Un botto Però Mi son fermato Perché ho detto Lo faccio spesso Anche con le altre serie Che mi fermo E dico No non voglio riempirmi Che poi non la finisco più E poi comunque Non la finisco più Quindi non la recupero più Non riesco più A tornare indietro Però vorrei Vorrei riprenderlo Però a livello D'animazione 3D E animazione Origina Non originale Insomma Bidimensionale Veramente poco Veramente Veramente poco Perché Non guardo più come prima Nei film Nei serie tv Ma Se c'è una cosa Che mi piace davvero tanto È la recitazione E quindi Se posso scegliere Guardo una cosa Con gli attori Piuttosto che Ma neanche da bambino? Cioè neanche tipo Disney Pixar? Poco Poco? Ok Sì poco E invece io Al contrario di Karim Faccio un parallelismo Sull'animazione Lui ama vedere Anche a me chiaramente Ama vedere la recitazione I muscoli facciali Per esempio Si contraggono Durante una scena Magari drammatica A me piace vedere Come un regista Lo riesce A riprodurre In animazione Però quella è proprio Una passione Beh Monster lo fa La serie Di Monster? Io ho visto la serie E letto il manga Ok Il manga intendi? Sì però Ok ok No 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 Dimmi No intendo dire Che io l'ho visto Recentemente Dopo averlo letto Il legione Ma io l'ho letto Dopo aver visto L'animazione E ho visto Diverse differenze Ce ne sono Sì qualcosa Qualcosa c'è Sì 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 Leggerissima A me su Arkane Non è mancata per niente La recitazione No Arkane È un'altra cosa Arkane Che bomba Incredibile Arkane Beh si è attivata Previsamente No 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 Arcae Non volevo guardarlo Arkane Cosa migliore mai fatta Da un videogioco L'ho visto tre volte In due settimane Arkane Arkane è su un altro pianeta Mamma Arkane è inarrivabile Ancora oggi inarrivato Speriamo di vedere Qualcosa di diverso Ci hanno messo anche Quasi dieci anni A farlo infatti Eh lo so Ci hanno messo un sacco Ma si vede Io però Ragazzi Devo sempre citare Spiderverse Cioè io Sì no Spiderverse È l'unica cosa Paragonabile ad Arkane Eh sì Stanno venendo fuori Degli esperimenti Quanto cazzo di tempo Avete Tutta sta roba Io personalmente Non dormo Nicola Vedi Quello serve Questo è un buon modo Per recuperare Quello aiuta Io dormo tre ore a notte Così è una giornata Di ventuno Non ce la faccio E una scarsissima Cultura cinematografica Però alcune perle Tipo Vabbè anime Tipo Arkane O di animazione Pardon Tipo Arkane Volevo dire Cioè quelle me le guardo Invece Il problema Nicola È che ti muovi troppo Cioè tu fai troppo Vai troppo Devi essere più sedentario Esatto Devi essere più sedentario E tutto il tempo Che perdi Muovendoti Facendo del moto Dimagrendo Puoi impiegarlo In altro Cos'è sto dicendo Ha ragione Francesco Tra l'altro Io sto d'accordissimo Nicola Perché ti muovi parecchio A parte Sentivo anche Sinergo Che andava a giro Queste ose Vai a giro Per la spiaggia Col cane Cose assurde Andavo Adesso purtroppo Non ce l'ho più Il cagnetto No cazzo Mi spiace Sì veramente Però succede È brutto Però ci cerco sempre di andare in spiaggia Soltanto che adesso mi fa un po' schifo andarci da solo Capito? Ti viene un po' malinconia Giustamente Mi devo rifare il cagnetto Così ci torno Almeno con un altro cagnetto Così mi lancio qualcosa Andare in spiaggia senza lanciare dei ceppi a caso Ti capisco Ma io invece sono sedentarissimo Questo è un problema che probabilmente mi porterà alla morte fra due giorni Ma tu sei sociale Quella è la differenza Ma è la fortuna che sei magro Penso io che ci pone la pazza Se sono sedentare umane Lo so Però io non ce la faccio ragazzi Però il sabato sera Il weekend me lo godo Esco anch'io Però non sono uno che va a fare la camminata La corsetta mattutina Anche perché Bravissimo In realtà Guarda che basta Basta fare le scale Andare a piedi nei posti Cioè non devi per forza Uscire a posta Secondo me è un modo di illudersi Vabbè Sara Perché forse non ti sfondi tu a mangiarli No no Mi sfondo abbastanza in realtà Un buon metabolismo per fortuna Però io quando posso camminare cammino Grazie a Cappaleo Anch'io Ma a me è riguardo un'età Dove il metabolismo ha fatto ciao Sara quanti anni hai che non mi ricordo? Non si dice Non si chiede Allora Non ti aspetteresti mai che Non ti aspetterai Non si dice più No 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 basta Non si dice più Non si dice più Non si dice più In che anno è? Ce n'ha 106 No non si dice più No è perché l'hanno detto già troppe volte su sto canale Poi mi stressano sul mio personale Perché di più di quello che ho penserebbe Che lo dico in privato Ma poi cosa ti chiede? Ma poi cosa ti stressano? Ma poi era per il metabolismo Perché Francesco ha detto una cosa molto giusta Perché io Vabbè io e Fra siamo coetanei Quindi Ok Quanti anni hai Francesco? No è perché il metabolismo ha fatto un danno Sì è vero No è per quello che dicevo E no non sei più piccola No io credo che È per quello che non lo dice No dopo dopo Ma c'è Allora scusa Scusa Sara ma io non ho capito come fanno a stressarti per la tua età Cosa lavorano all'Inps Quelli in chat da me Non lo so mi riuscano i coglioni In che modo? Cosa ti dicono? Ehi figli Ehi matrimoni Ehi La mia chat La mia chat Al massimo C'hanno vent'anni Ma infatti La massima scelta che c'hanno È che porno sceglie Su Pornhub Gli importano Sì ancora questo stigma Sui videogiochi Cioè? I figli in videogiochi Aspetta Sui videogiochi c'è ancora sto stigma Che dopo un po' Secondo loro Non puoi più giocare Che basta Devi fare altro Massimo Ma che pubblico hai? Coca Web Sì dati Che c'è sto stigma Coca Web Sì è vero Che dicono che Che i videogiochi Non sono un lavoro Cioè quindi Ma poi Vittor C'ha 50 anni Cioè guarda Ma io Ma non sapevo Raga Ma non sapete Cazzo a Sara Cioè Via Giocherà Vedi Vabbè Vengo lì Mi fa milfona Milfona Ma che dove Milfona Non ce li ho i figli Milfona di che Vedi È quello Ma non sanno Cugarò Io lo dicevo Fino a ieri Ma non lo dico L'80% Ma perché C'è ma che ti frega Ma internet Non conosce i termini Che usa Eh lo so che non li conoscono Già che mi dicono milf Vuol dire che non li conoscono Ma c'è Come adesso Tutti che abusano del pov Che senza sapere Che vuol dire Ah sì Non lo sapevo questo Ma il peggior abuso È cringe Cringe Bravissimo Ma infatti è estremamente cringe Vedere chi usa cringe Quando qualcuno scrive cringe A casa mia chat Io lo banno Sì Ma per davvero Sì No non esiste Ma a me è capitato Gente che pensava Che cringe Volesse dire entusiasmo Cioè Te lo giuro Mi è capitato una volta Che ho fatto una roba Era una roba di tail Sara lì il problema Non è lo stigma Però è la chat No ti giuro O addirittura lo streamer Che stimola la chat Magari no 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 Lì c'era un problema Ho fatto una roba con il tail Arrivato un mio amico Mi fa Madonna Sara Oh figata Che cringe Ma scusami Figata o cringe No no Cringissimo Ma sai cosa vuol dire cringe Vero Vuol dire che è imbarazzante Tu si è imbarazzato Guardando me Perché dovevo imbarazzarmi No volevo dire che era figo Ho detto Allora non sai cosa vuol dire Allora Prima che si usasse cringe C'era un altro modo per dire Quando qualcuno sta vivendo qualcosa di imbarazzante E ti imbarazzi tu E lo adoravo Second and embarrassment Sì imbarazzo di seconda mano Ah sì sì Seconda mano L'imbarazzo di seconda mano L'imbarazzo di seconda mano è carina Esattamente quello Questa la dice L'imbarazzo di seconda mano È bellissimo Non l'ho mai vissuta questa roba qua Eh io l'imbarazzo di seconda mano C'era solo con gli temer Ma sarà ma il cringe Il significato non è Quando tu ti imbarazzi in generale Quando tu ti imbarazzi per una persona E pensi Dio mio Meno male che non sono lui Questo è il cringe Esatto L'imbarazzo di seconda mano È un imbarazzo che non dirige Ma da un'altra persona Sì sì Tipo l'Aisemer Mi scatena l'imbarazzo di seconda mano E beh Solo quello Ci sta Però Non lo so Sull'età Sara Io ti posso rassicurare Nel senso che Non voglio dirla chiaramente Però ti voglio dire che Secondo me Sono serissimo Sono serio Giuro No ma io lo so che tu sei serio Il problema Ti dicevo che secondo me è una cosa Di tutti i ragazzi Io vedere lo stupore Delle persone Che Sgranano gli occhi Quando Gli dici che età hai Dovrebbe riempirti di gioia Ma lo fa Ma lo fa Dario Credimi Cioè io sono felicissima Il problema è quando poi Il giorno dopo Mi trovo Cugar Lili Milf Lili Che palle Questo non si fa ragazzi Scusa Sara Eh vabbè Non preoccuparti Che sai all'inizio Io ci sto allo scherzo Dopo un po' Basta Era un percazzo Sì sì ma infatti Ragazzi Non lo fate Se no I mod di Sara Vi bannano Comunque L'ultima domanda Voglio farvi a tutti Se Perché questo mi interessa davvero Chi non so cosa pensare Se aspettate Avatar 2 Wow Una domanda Proprio Out of context Comunque E l'ha detto Karim prima Quindi sono sostificato A fare tutto Sì 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 Io ormai qua Si va a braccio Sì sono curioso Di sentire la vostra Non so Cosa voglio Aura di rimanere deluso Dopo il capolavoro del primo Il capolavoro Allora Dai no raga No vi prego Non mi criticate Anche l'avatar No 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 È un buon film Ah non eri ironica No Attenzione Attenzione Dai È bellissimo Avatar Dio santo Ma io sono uscita da lì Che mi sentivo un navi Volevo vivere in quel mondo Cioè ma seriamente Voi non vi siete emozionati Second hand embarrassment Dai Ora ho scoperto questa cosa C'è un imbarazzo di second hand Grazie il pitch L'etp La cosa che mi fa ridere adesso A posteriori E pensare che Cioè Avatar è arrivato appunto Come Mondo Come personaggi Come film Dal nulla Campione di incassi Premio qua Lago Anni E finché non è soddisfatto Fino all'ultimo centimetro Non lo fa uscire Lui è sempre stato così Ecco quindi Avatar Tecnicamente Esteticamente E Registicamente È stato qualcosa Di Sconvolgente Nel senso che Se tu oggi Guardi Avatar In blu ray Dici Quando è uscito Questo film Cioè È di una bellezza Una precisione È una cura Per i WFX Ti fa sognare Ti fa sognare A livello estetico E costruttivo Del mondo Senti come la sta costruendo No no Infatti Io l'avrei intavolata Esattamente così Quindi approvo Ha premuto il tasto d'attacco E sta caricando Il fatto è questo Il fatto è questo È che L'unica cosa che ha Allora Mettiamola così Prendiamo un film No Prendiamo Arancia Meccanica Ok Arancia Meccanica È un film Avatar è la tech demo Di un film Eh sì Che va bene È un benchmark No è vero Nel senso Non è Il numero di Avatar Ma neanche quando volavano No allora Ascolta Sara Ascolta Il problema di Avatar È uno solo Non ne ha una reale colpa Non ne ha una reale colpa Se si vuole immaginare L'opera di un autore In una bolla Che però Non è Realmente esistente Che cosa intendo dire Che Avatar Scusatemi il termine Noioso da vocabolario Ma è anacronistico Nel senso che è una storia Uscita 25 anni in ritardo E poca onta Saida degli altri E poca Sì Quindi se tu non hai mai visto Balla quei lupi Se tu non hai mai visto Mai Un racconto di quel tipo Alien È il motivo per il quale Io invece che appresso Moltissimo all'animazione Comunque Al di là della mancanza di tempo Ormai Per farmi piacere Uno shonen E madonna ragazzi Nel senso che Quello è normale Non c'è differenza con Avatar Perché la storia La storia è quella Un battle Attenzione Un battle Shonen Hai ragione Un battle Un action Un action è meglio Perché battle Shonen Vedi Gunplay Gunplay È bello È bello infatti Ci sto No perché anch'io sto Cercando di auto addestrarmi Perché se ci pensi Battle Shonen Non ha senso Capito Ho capito cosa vuoi dire Ok È un action Quindi farmi Piacere un battle Io devo Fare davvero Immersione Nel dimenticarmi Ciò cose che ho già visto Cercando di comunque Utilizzare la mia esperienza Per fare una valutazione Avatar È una storia Talmente banale Ma talmente Ben fatta Con delle emozioni E recitazioni Così vere Così profonde Che riesci a percepire L'emozione Che vuole raccontarti Ma Dio santo È come leggere A 65 anni La storia Della pimpa E dici ok Quanto puoi emozionarti Mi sto rileggendo Tutto Harry Potter A me è il primo Ancora emozione Anche se Harry Potter è figo Non c'entra No no Non è Quella la correlazione Tu immaginati Tu dici Che è troppo infantile No Non c'è una storia rivista Io dico Che tu hai letto Harry Potter Non hai letto Il settantesimo Harry Potter È diverso È solo quella La fregatura Cioè che all'improvviso Ti esce un Isekai Tra vent'anni Quando magari Non si fanno più Però scusate Però diciamo Che il 2 potrebbe Cioè Tecnicamente Esatto Il 2 potrebbe essere Invece una Madonna Allora perché Il primo film Sostanzialmente Presenta Pandora Presenta i navi Presenta Presenta quel tipo Di tecnologia Presenta quel mondo Ok E induggia tanto A fare questo E lo spettatore Apprezza pure Poi però A supporto Di tutta questa Diciamo così Di tutta questa Bella presentazione Che ti fanno La trama È una trama Che sostanzialmente Era scritta Nella roccia Ai tempi di Cristo Ma è stata anche Raccontata Nello stesso modo Sì 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 Quindi diciamo Dal livello narrativo Trascurabile A livello Tecnico Cioè Tutto ciò che non è Narrativo Va benissimo Perfetto Quindi dal secondo film Mi aspetto Visto che sono passati Pure tanti anni E Dio santo Magari non lo fanno Uscire in 3D Questo lo sto Prendendo Lo fanno Lo fanno Lo hanno già detto L'altro giorno Lo fanno uscire in 3D Mario Bene Allora aspetto Benissimo Comunque Uscirà in tutti i formati Possibile Il record mondiale Di formati Benissimo Perfetto Lo aspetto No però il discorso è Visto che adesso Hanno preso 4D col colore L'acqua addosso Stavolta ci possono mettere Anche una storia Un attimino più stratificata Un pochino più profonda Hai già la base Esatto Eh la base ce l'hai Non devi neanche perdere tempo A spiegarla A meno che non Scusami Scusami Un riassuntone Esatto Sono passati 13 anni Io non ho capito È successo poco È molto poco Sì ok Però Le scritte di postar wars All'inizio del genere La domanda è Perché dopo 13 anni Essere sentiva il bisogno Dopo tanto Magari ti dà qualcosa Di cui non sentivi il bisogno Ma di cui non sapevi Sentire il bisogno Capito Io spero quello Capito Anche perché lui si è buttato Per quello No è solo per quello Io avrò una mente Super semplice Per me continua A essere bella Sara ma non è mica Niente Se te è garbato Ci mancherebbe altro A me mi ha fatto sognare È un buon film Io avevo gli occhi a cuore Quando sono uscita Da quel cinema Non ho pensato ad altro Per almeno due settimane Ma non è che te lo ricordi Come si ricorda Un bel gioco Che poi rigiochi Dopo 14 anni Io ho proprio dei sentimenti forti Cioè se io penso ad Avatar Penso proprio a A quel mondo A quell'immersione E a me mi ha preso da morire Ecco lui è riuscito A creare un mondo infatti Quello è il potere Probabilmente sei molto sensibile A tutto ciò che è world building Io l'immersione la vivo tantissimo Sia nei videogiochi Che nei film Quindi per me è stato immersivo Al massimo Io ero lì dentro Io per esempio Quella cosa lì Cioè Tu mi puoi fare un world building Perfetto Ma veramente Il più bello del mondo Prendi il world building Il più bello del mondo Se non c'è dietro Un personaggio a cui mi affeziono Per me quel mondo lì Lo puoi buttare nel cesto Quindi Io in Avatar Il contrario Il contrario è Undertale Io purtroppo In Avatar Avrei dato fuoco a tutti Il protagonista La sedia a rotelle I navi I nemici Durante il combattimento Alla fine non vola Una goccia di sangue Avrei dato fuoco Pur a Cameron Avrei dato fuoco a tutti Quindi Io semplicemente Dalla parte degli umani Io ho avuto questo senso Di patriotismo Umano A me manca proprio Quel lato cinico Non ce l'ho No no Ma Sara Ma non ti sentirei in colpa Benissimo Non mi sento in colpa Raga Io continuo ad amarlo A prescindere da quello che dico Anche perché Se iniziamo a parlare Delle cose che ci piacciono Poi finisce A merda Esatto Io non sto parlando Di fare le cose Di otto posta Io Vi porto una cosa L'unica cosa Che mi attrae tanto Di Di questo avatar È che Cameron Si è buttato In fondo Alla fossa Delle Marianne Per Questo è incredibile L'ha già fatto Con Titanic Chissà No ma lì qui Si è buttato Nel punto più profondo Della terra Stiamo parlando Del mondo alieno Il documentario Sta L'avete visto Sì 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 No io sono fissato Con i pesci abissari Nonostante non ne sappia niente Però è bello Proprio da scoprire Come muovere Sarà una pescatrice Che figata Bello ecco Ora si ragiona Cos'è il bosco? Lì non ti piace Il bosco 1 Questo Lì non ti piace Ti piace per un motivo Sbagliato però Rimasterizzato in 4k Fortissimo Non lo conto Mario non lo conto Perché quello Ti piace per un motivo Sbagliato Non è Non è È sbagliato È il guilty pleasure Ti piace perché Che è grande cinema No Non è vero Non è vero Non è vero Che ti piace per quello È una bugia E in un epoca in cui Tutto ha un sequel Tutto ha un Il bosco 1 Questo l'ha detto Fin dall'inizio Che era uno solo Il bosco 1 Ragazzi In 4k Finalmente lo vedo Secondo me c'è scritto Un bosco Semplicemente Un bosco Allora Un il bosco Sì sì Perché Marfori ha detto Che all'epoca Uscivano un sacco di due Il regista Marfori Dice che all'epoca Uscivano la casa 2 Era tutto 2 Si è già preparato Ma tu lo sai Che questa cosa Se l'ha inventato dopo Perché quello Non è un 1 Era un graffio Ah questo è un graffio Non è un 1 È un graffio E tu ti dicevano Il bosco 1 E lui si è inventato Quella cagata Nell'1 Per questo motivo Ma non è vero È un 1 Vabbè hanno modificato Quell'edizione magari Comunque questa è una versione Anche autografata Da Andrea Marfori Dai Che sfigata Dai L'ho pagato Uno sfondo di Quanto l'ha pagata? Si può dire? L'ho pagata qualcosa come Mi sa Una cinquantina d'e Ma sì Ma buttaceli dentro Ma cos'è Una roba stile Alex Lariete O è una storia seria? Meglio Guarda Sara A me dispiace Che non si trovi Su Prime Perché se no Qua c'era da fare Un watch party Questo è un film Bellissimo Già che si chiama Il bosco 1 Ti dovrebbe dire Il bosco 1 Il bosco 1 Ragazzi Io inizio A ringraziarvi Perché sono passate Due ore Sono state due ore Ma come? Wow Sono volatissime Ringrazio Eh sì ragazzi No no Lo so Lo so Ringrazio Francesco Miceli NarteFroze Lo trovate ovviamente Dappertutto Su Youtube Su Twitch Su Instagram Come tutte le persone Che vedete qua Praticamente Quindi cercateli Tranne su TikTok Tranne su TikTok Anch'io Con fierezza Lo dici quasi No ma è un titolo nobiliare Cioè Non su TikTok Guarda Sara Li metto vicino Grazie a quei due sul server Ragazzi ovviamente Anche loro Youtube Twitch Dappertutto Grazie a Victor Victor Lazo Ormai è qua È di casa Viare spesso Grazie a Nanni Grazie a Karim Anche lui Dovrebbe avere un canale Youtube Io sono su TikTok Sei tu TikTok E anche su Twitch Sara Kuro Lili E infine Sabaku Michele E poi Michael Ovedese Ho creato i 300 Soprannomi Sabaku No Suturima Sbeku Nomeku Sbeku Nomeku Che è l'avatar Chiaramente creata Da qui sul server Sabaku Nomaku Esatto Esatto Comunque Grazie di esserci Ovviamente insieme Ogni tanto fanno live insieme Con nome Come vedete dal titolo Di Old Gen Seguitene anche lì Sono live molto chill Molto belline Brillanti Oserei dire Brillanti Che è l'aggettivo perfetto Secondo me Trovate anche le fributate Sul canale Youtube All Gen Credo vi avevi detto tutto Grazie di cuore ragazzi È stato bellissimo Mi sono divertito un sacco Vi abbraccio Vi bacio Posso dire l'ultima cosa Vai Elder Ring per me È un sette Massimo sette e mezzo E potevano fare molto di più Scusate Va bene Hai seguito una linea Perfetta Sì 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 Così da figlio di Troia Proprio all'ultimo Proprio zitto zitto Ha buttato dentro Questa cosa Possibilità di risposta Esatto È vero Esce vincitore così Capito Ciao ragazzi Ciao Ciao Buonanotte Buonanotte Buonanotte